Buongiorno a tutti colleghi e colleghi, è con particolare piacere che sono oggi a portare i saluti dell'Ordine dei Medici a questo corso su di un argomento che se vogliamo, seppur di nicchia, è sicuramente io credo di grande interesse. In quanto io come medico di famiglia sempre più spesso ricevo da parte dei pazienti richieste di informazioni e di interventi nel mondo dei cannabinoidi nell'ambito della terapia del dolore cronico. Ed è un settore in cui forse ancora le informazioni sono abbastanza così approssimative. Spesso io stesso mi trovo in difficoltà ad affrontare queste problematiche. Infatti il mondo del dolore cronico è peraltro un ambito dove anche se abbiamo al momento attuale molte più armi di quante non avevo per esempio quando ho iniziato 30 anni fa la carriera, è sicuramente un mondo dove ancora c'è molto da fare e credo che il settore dei cannabinoidi possa darci un'ulteriore freccia al nostro arco. Mi si è consentito in questa occasione fare i ringraziamenti in particolare alla dottoressa Mara Ramplaud che venne qualche mese fa appunto a propormi questo tipo di corso di argomento e devo dire accettai con molto piacere ma gli chiesi guarda Mara fammi un corso assolutamente pratico, poco accademico e molto concreto. E sono sicuro che la dottoressa Ramplaud sia riuscita in questa missione che così gli avevo personalmente richiesto e l'ho capito subito quando ho visto l'elenco dei relatori che aveva scelto di coinvolgere, tutte le persone di altissimo livello, che ringrazio personalmente tutti i colleghi che hanno accettato di venirci a dare il loro sapere in questo ambito e che sono sicuro che riusciranno a crearci un prodotto di sicura qualità. E proprio perché gli argomenti che andremo a trattare sono estremamente interessanti, non voglio portarvi via ulteriore tempo, ma lascio la parola alla dottoressa Ramplaud per presentare un pochino più nel dettaglio quello che sarà il lavoro che andremo a fare nelle prossime ore. Grazie, grazie a tutti ancora. Grazie, grazie Tammurini, grazie tantissimo della presentazione. Prima di entrare nel vivo della giornata ho l'incarico di dare delle informazioni per quanto riguarda il discorso ECM. Quindi per fortuna che la regia mi ha messo la slide, così sono sicura di non sbagliare. Questo evento di due ore dà tre punti ECM e solo per chi avrà frequentato il 100% delle Monte Ore avrà la possibilità dalle 17 di oggi fino alle 23.55 del 12 di ottobre di rientrare nella piattaforma, in questa stessa piattaforma per rispondere ai tre quesiti, alle domande che dopo averle superate danno la possibilità di avere il credito ECM. Inoltre, per chi volesse porre delle domande, che spero che siano sempre tante perché questo vuol dire che l'incontro ha suscitato e suscita interesse cioè si organizzerà l'incontro, la risposta alle domande alla fine degli interventi dei relatori e le domande possono essere scritte sulla barra in basso dove vedete D e R e alla fine dell'ultima relazione verranno riportate e i vari relatori risponderanno alle domande fatte. Detto questo, si entra direttamente nella presentazione dell'incontro. Prima di tutto i ringraziamenti dovuti, ma veramente fatti, veramente col cuore ai relatori che hanno accettato oggi di partecipare e di dedicare il loro tempo e il loro lavoro a questo incontro. E un grazie anche all'Orne di Medici che mi ha dato il supporto e ha visto la possibilità di avere un interesse su questo argomento. Perché? Io poi tutto lavoro come medico di famiglia anch'io e anch'io come il dottor Tamorini mi sono, comincio a vedere sia delle richieste da parte degli specialisti della prescrizione sulla cannabis terapeutica sia le richieste da parte dei pazienti, di avere sia delle prescrizioni e di avere delle spiegazioni su quali sono le potenzialità della terapia a base di cannabinoide. Allora, dobbiamo fare riferimento. Il primo inizio inizia il 9 novembre del 2015 quando il decreto ministeriale dà la possibilità di aprire sulla cannabis, sugli studi, sulla cannabis, sulle potenzialità terapeutiche della cannabis. Dal 2015 al 2007 ci sono stati varie leggi, varie disposizioni di cui poi vedremo e però quello che manca e secondo me è mancato è il passaggio dell'informazione al medici. E quindi sì, abbiamo la possibilità di prescriverlo, ma in verità non sappiamo né come, né quando, né tutto sommato perché e che cosa aspettarci. Da queste domande, da questa situazione, è nata l'incontro di oggi che è il primo di due incontri. Come il dottor Tamurini diceva, abbiamo cercato di dare uno spazio molto pratico. Chi fa che cosa e come farlo. e siamo nell'ambito, e questo è importantissimo, della fitoterapia. Cioè le prescrizioni che si fanno della cannabis sono terapeutiche, sono a base di un prodotto medicinale fitoterapico. Cioè tutto a base di sostanza, dell'erba, della cannabis attiva, di cui è il materiale da cui si attivano, si arrivano i principi attivi. Quindi il primo incontro, quello di oggi, è quello di base. Cioè si parlerà della cannabis attiva, della pianta e dei principi attivi che fanno riferimento alle potenzialità terapeutiche. Si parlerà del sistema fisiologico. Cioè una volta che questi principi attivi sono stati estratti e le modalità di estrazione e come vengono, quali sono le varie modalità che possono essere utili, come questi principi attivi interagiscono col sistema biologico umano dal punto di vista dell'anatomia e dal punto di vista della fisiologia. Dopodiché sempre oggi si parlerà di quell'aspetto fondamentale per sapersi muovere nella prescrivibilità della terapia dei cannabinoidi, sulla parte legislativa e sulla parte invece di modalità di prescrizione, in maniera pratica, come deve essere fatta una ricetta. La giornata, la seconda giornata invece, che sarà quella sempre al sabato, sabato prossimo, sarà invece dedicata più all'aspetto clinico. Quindi i colleghi specialisti che già prescrivono la cannabis porteranno le loro esperienze cliniche e questo potrà aiutare i medici sul territorio a valutare che cosa stanno facendo e a chi stanno prescrivendo e soprattutto che cosa aspettarci come discorso terapeutico. Per quanto riguarda il discorso legislativo, questo bisogna fare, e qui faccio un punto, perché diventa un punto importante dal punto di vista pratico. Ci sono, la legislazione, c'è una legislazione di tipo nazionale che però demanda poi alle regioni i vari aspetti prescrittivi. Un aspetto fondamentale è che tutti i medici possono prescrivere la cannabis terapeutica. Però ci sono due modalità. Uno seguendo un discorso di privato, cioè nel senso che il paziente si paga la sua ricetta, il suo preparato. Quell'altro invece che è normativa delle regioni, il modo in cui creare, può essere rimborsato da parte del sistema sanitario nazionale. E su questo punto io volevo sottolineare la necessità comunque di creare una relazione fra ospedale e territorio, perché la prescrivibilità della cannabis viene fatta tramite piani terapeutici specialistici che poi arrivano al medico di base e tante volte il medico di base, il medico di famiglia, anzi scusatemi, non sa com'è la modalità prescrittiva. Quindi oggi daremo una risposta pratica a questi aspetti estremamente quotidiani, ma che sono importanti nella gestione della prescrivibilità della cannabis. Quindi spero che l'incontro di oggi crei anche una modalità di relazioni, delle relazioni fra i vari specialisti, in modo tale che chi si dovesse trovare in difficoltà o avere dei dubbi o avere così delle domande, sappia a chi rivolgersi per avere le risposte ai vari dubbi che possono comportare la modalità terapeutica della cannabis. È chiaro che non ci sono solamente effetti positivi sulle risposte, vedremo anche le criticità che possono creare la terapia con la cannabis. E ad esempio delle criticità proprio pratiche e quotidiane, e qui ne aggiungo una, che è quella della... Abbiamo detto che la cannabis fa parte di un discorso di fitoterapia, quindi ci deve essere la materia prima, e chi prescrive a volte si trova nella difficoltà di reperire la materia prima per la prescrizione ai propri pazienti. e cioè a volte la cannabis non si trova per poter far utilizzare i rimedi. E anche questo sarà un aspetto che verrà toccato e deve essere valutato nel momento in cui si fa la prescrizione della terapia a base di cannabis. Detto questo, lascio la parola al primo relatore, il primo relatore che ci parlerà della materia prima, della pianta della cannabis. Il dottor Dell'Agli, che è direttore del Dipartimento di Farmacologia dell'Università di Milano, e lascio a lui la parola. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie alla dottoressa Rampludo e a tutti gli organizzatori per questo invito. Perfetto. Allora, a me è il compito di cominciare ad addentrarci in quello che è il mondo di cannabis, quindi conoscere la pianta, gli aspetti fitochimici, quindi anche la composizione chiaramente dei prodotti a base di cannabis e le potenzialità d'uso, tenendo in considerazione che quelle che sono le proprietà terapeutiche saranno sicuramente trattate poi successivamente da altri relatori. Allora, che cos'è cannabis attiva? Il termine cannabis attiva sta ad identificare chiaramente la pianta della canapa, il nome cannabis deriva dal greco canapa, che va a identificare la fibra tessile molto utilizzata appunto in tessitura e in numerosi altri ambiti. Il termine sativa invece è di origine latina ed è sativus, il participio passato del verbo serere, seminare. Questo termine indica tutte le piante che sono particolarmente adatte ad essere coltivate, tra cui appunto cannabis attiva. se andiamo sul sito The Plant List, che è uno dei siti più accreditati nella gestione di quelle che sono le terminologie delle piante, ci rendiamo conto che il termine cannabis attiva è quello universalmente accettato con un livello di confidenza particolarmente elevato. esistono altri tipi di terminologia associata a cannabis sativa che vanno a identificare tutta una serie di varietà o di sottospecie, quindi vedete numerosi con un intervallo di confidenza sicuramente più basso, ma che sono considerati dei sinonimi in termini proprio di terminologia di cannabis sativa L. La pianta, che tipo di pianta è cannabis? È una pianta erbacea, quindi una pianta a fusto verde non legnoso, annuale, che quindi compie il suo ciclo vitale nell'arco di un anno, dioica, dioica significa che è una pianta che presenta sia individui maschili che individui femminili, entrambi questi individui portano fiori differenti, fiori maschili o fiori femminili. Può arrivare fino a due metri d'altezza e fiorisce tra marzo e aprile. Le foglie sono composte da numerosi frammenti che spesso sono diseguali, quindi di lunghezza variabile, con un margine seghettato e particolarmente ricchi di peli secretori che vedremo successivamente. L'origine è l'Asia, centro-occidentale, e dove già veniva utilizzata negli anni 1000-1100 come sostanza alimentare, soprattutto i semi, anche a scopo ricreativo, religioso, in ambito terapeutico e appunto anche, come abbiamo già detto, nell'ambito della tessitura proprio per l'utilizzo della fibra di canapa. Esistono numerose sottospecie, quindi numerose varietà e cultivare, alcune presenti in natura, alcune create dall'uomo per migliorare anche poi quelli che sono gli aspetti di composizione fitochimica della pianta. La sottospecie sativa e la sottospecie indica sono quelle più note. Esistono delle differenze sostanziali che devono essere sottolineate tra queste due sottospecie di cannabis sativa. L'habitat sativa, la sottospecie sativa è tipica dell'Europa e dell'Asia centrale mentre la sottospecie indica si trova soprattutto in Asia meridionale in Africa e nel Sud America. L'altro aspetto interessante è la composizione. Infatti il tetraidrocannabinolo, il THC è presente in basse quantità nella sottospecie sativa e invece ha più elevate quantità nella sottospecie indica. Per quanto riguarda il territorio italiano va detto che tutto il territorio del nostro paese è adatto particolarmente adatto alla coltivazione di cannabis e nel quinquennio 2013-2018 si è effettivamente assistito ad un aumento sostanziale del terreno coltivato a cannabis con un aumento di oltre dieci volte. Quindi questo conferma del fatto che c'è un particolare interesse non soltanto nell'utilizzo terapeutico della pianta ma anche nella sua coltivazione. Se parliamo di prodotti particolarmente interessanti e matrici quindi della pianta particolarmente utili anche a scopo terapeutico ma non soltanto come abbiamo visto anche a scopo alimentare effettivamente troviamo le foglie le infiorescenze i semi che qui vedete in basso a sinistra ma anche l'olio l'olio che si ottiene dai semi e che è particolarmente utilizzato ad esempio per lenire infiammazioni a livello cutaneo quindi le parti prevalentemente utilizzate sono i semi le foglie e le infiorescenze per quanto riguarda i semi di canapa sono un ingrediente molto interessante in numerose cucine orientali nell'area dell'ex unione sovietica vengono utilizzati ancora oggi per la preparazione di alimenti i semi essiccati vengono utilizzati per la preparazione di una farina che poi viene utilizzata appunto a scopo alimentare oppure per l'estrazione dell'olio i semi sono l'unica parte della pianta che non contiene sostanze psicoattive e quindi possono essere tranquillamente utilizzati appunto a scopo alimentare oltre all'olio i semi contengono anche proteine fino a un 25% fibre e altri fattori di interesse non però in ambito nutrizionale per quanto riguarda la fibra la fibra è ottenuta dallo stelo quindi dal fusto della pianta ed è usata per la produzione di numerosi prodotti come la carta le corde tessuti che possono essere utilizzati per vestiario e più recentemente anche per la produzione di mascherine in quanto il tessuto è in grado di trattenere particolarmente bene il particolato atmosferico che come sappiamo può essere veicolo di virus per quanto riguarda l'utilizzo come sostanza d'abuso conosciamo sicuramente due prodotti l'ashish e la marijuana entrambi derivano dall'utilizzo di cannabis attiva il primo deriva dalle resine quindi dall'essudato che si ottiene dalle resine che sono una parte dell'infiorescenza questo prodotto viene generalmente lavorato a produrre pani che poi possono essere generalmente vengono mescolati al tabacco oppure masticati per quanto riguarda invece la marijuana si ottiene dalle foglie o dai fiori anche in questo caso può essere fumata ovviamente sempre come sostanza d'abuso e causa può causare chiaramente euforia alterazioni del comportamento queste dovute chiaramente alla presenza di tetraidro cannabinol entriamo un pochino nel dettaglio su quelli che sono i componenti biologicamente attivi di cannabis i cosiddetti metaboliti secondari delle piante questi prodotti vengono solitamente prodotti dalla pianta come difesa come meccanismo di difesa e in cannabis esistono diverse componenti i fitocannabinoidi sono sicuramente i prodotti più conosciuti ma vi sono anche altre componenti come gli aciti grassi presenti nei semi i terpeni che sono la componente volatile e la principale componente che costituisce poi l'olio essenziale quindi che determina le caratteristiche organolettiche di cannabis quindi il profumo l'aroma i polifenoli distinti in molecole di natura fenolica e flavonoidi e gli steroli o fitosteroli i fitocannabinoidi sono appunto come dicevo poc'anzi quelli più noti sono sostanze particolarmente presenti ne sono state identificate oltre 70 in cannabis attiva il principale è quello che vedete qui in alto a destra il delta 9 tetraidrocannabinolo ed è la principale sostanza psicoattiva in cannabis esiste però anche il delta 8 tetraidrocannabinolo il quale è meno presente costitutivamente nella pianta e anche meno potente come psicoattivo altri prodotti non psicoattivi ma che anche recentemente sono stati oggetto di interesse nella comunità scientifica per le potenzialità terapeutiche ancora chiaramente in fase di conferma sono il cannabigerolo il cannabicromene il cannabinolo e il cannabidiolo su cui invece abbiamo già numerosi studi perlomeno in vivo anche se ancora pochi a livello clinico i fitocannabinoidi derivano dall'acido olivetolico da un punto di vista biosintetico nella pianta il primo prodotto che si forma per appunto condensazione con il GPP è l'acido cannabigerolico il quale può dare origine al cannabigerolo uno dei fitocannabinoidi oggi ritenuti più interessanti in cannabissativa ma anche l'acido cannabigerolico può dare origine all'acido tetraidrocannabinoilico da cui si forma appunto il THC questa è chiaramente solo una parte della biosintesi che avviene nella pianta però è quella che dà origine diciamo ai prodotti più interessanti dal punto di vista delle attività biologiche infatti dal CBGA si ottiene il CBDA che poi dà origine al cannabidiolo oppure il CBCA che dà origine al cannabicromine esistono numerose reazioni di decarbossilazione che portano gli acidi appunto corrispondenti a perdere la nitride carbonica formando i cosiddetti prodotti decarbossilati che sono quelli biologicamente più da un punto di vista biologico più attivi i terpeni sono i componenti dell'olio essenziale sono secreti dai peli ghiandolari presenti sulle foglie e sulle infiorescenze della pianta ne sono stati identificati oltre 100 con numerose caratteristiche ed è chiaramente la miscela che poi conferisce quelle classiche caratteristiche organolettiche alla pianta quindi il suo profumo e il suo aroma sono fra i principali vi è il mircene il beta cariofillene alfa e beta pinene l'humulene che è un terpene caratteristico ad esempio del luppolo da cui prende appunto il nome humulus lupulus e il luppolo ricordiamo che il luppolo è una pianta che appartiene alla famiglia delle cannabacee come cannabissativa altri prodotti particolarmente interessanti sono i polifenoli mi soffermerei un pochino di più sulla componente flavonoidica in quanto cannabis contiene dei flavonoidi particolarmente peculiari e caratteristici le canflavine le canflavine al momento sono state identificate solo in cannabis ne sono state identificate diverse ma le principali sono canflavina A e canflavina B altri flavonoidi invece come la quercetina sono sicuramente più ubiquitari quindi di minore interesse per quanto riguarda la componente non flavonoidica esistono numerosi altri prodotti fra cui appunto il cannabis piranola e il cannitrene gli acidi grassi e gli steroli o fitosteroli sono presenti soprattutto nei semi ho già accennato al fatto che l'olio dei semi di cannabis contiene acido linoleico e acido alfa-linolenico quindi omega 3 e omega 6 l'acido alfa-linolenico ha un ruolo antinfiammatorio particolarmente interessante soprattutto a livello cutaneo e quindi l'olio presenta fra le varie attività anche questa attività antinfiammatoria per quanto riguarda i fitosteroli non sono particolarmente utilizzati in ambito di attività biologiche il principale è lo stigma esterole due parole sulle potenzialità d'uso come abbiamo già detto i semi molto utilizzati nell'industria tessile anche in numerosi altri ambiti produzione di vernici inchiostri alimento chiaramente per la produzione dell'olio negli integratori alimentari gli steli per la produzione di canapa le foglie sono molto assorbenti vengono utilizzate ad esempio nei compost ma anche le radici sono particolarmente interessanti e alcuni studi hanno evidenziato alcune attività antinfiammatorie e sembrano potenzialmente interessanti anche se necessitiamo di ulteriori conferme come rimedio per dolore articolari fermo restando che sicuramente le potenzialità terapeutiche non sono un mio compito oggi ma verranno approfondite in altre relazioni ci tengo a sottolineare che sono tanti veramente molteplici gli ambiti in cui cannabis in questo momento è studiato o è stata studiata molte di queste attività necessitano di conferme cliniche nell'uomo ma altre sono particolarmente promettenti sicuramente un cenno a cannabidiolo deve essere fatto in quanto è sicuramente dopo THC la sostanza di maggiore interesse è quella che è stata più studiata in questi anni è una molecola non psicoattiva oggi particolarmente interessante soprattutto a mio avviso per le potenzialità antinfiammatorie e negli stati di ansia e nel trattamento del dolore mi avvio alla conclusione dicendo che a mio avviso cannabis è una pianta unica nel suo genere non esistono piante con caratteristiche sia in termini di composizione che di potenzialità terapeutiche così peculiari sono veramente numerose le potenzialità e gli ambiti di utilizzo si parla da tantissimi anni ormai di cannabis e delle sue potenzialità ma a mio avviso siamo ancora veramente lontani dall'aver scoperto tutte queste potenzialità in quanto conosciamo ancora poco sia sui componenti biologicamente attivi sia su le attività biologiche associate ai fitocannabinoidi minoritari quindi quelli che sono costitutivamente presenti nella pianta in minor quantità infine conosciamo poco sui flavonoidi le canflavine che invece potrebbero essere particolarmente interessanti anche perché alcuni studi sembrano evidenziare che possano sinergizzare con i fitocannabinoidi nell'espletamento appunto di alcune attività biologiche terapeutiche dei prodotti a base di cannabis oggi esistono delle riviste scientifiche con particolarmente quotate che si occupano esclusivamente di pubblicare ricerca scientifica nell'ambito di cannabis e dei suoi prodotti come il cannabis and cannabidine research e questo conferma ulteriormente se ce ne fosse bisogno l'interesse che ancora c'è nei confronti di questo prodotto io ho terminato e vi ringrazio per l'attenzione grazie mille grazie per la presentazione e per la possibilità di aver conosciuto la materia prima della cannabis terapeutica che è la pianta tra l'altro una cosa mi ha colpito che proprio non sapevo è il fatto che possa essere utilizzato per le mascherine per le mascherine che in questo periodo sono un problema sono importantissime ma diventano un problema dal punto di vista ecologico quelle sintetiche e il fatto di sapere che le mascherine a base di cannaba hanno un'azione importante per quanto riguarda il trattenere il virus è una è una nota in più sottolineo l'importanza dei principi attivi della cannabis non solo dal punto di vista degli stupefacenti quindi del THC ma di tutte quelle altre sostanze dei fitocannabidoidi che sono importanti con azione antinfiammatoria proprio perché una delle potenzialità terapeutiche degli antinfiammatori sono altrettanto importanti quanto quelle legate alle sostanze psicoattive abbiamo visto quali sono quindi le sostanze le due sostanze più importanti e più studiate in questo momento che sono il THC e il CBD il THC che è una sostanza psicoattiva il CBD che invece non viene riconosciuta come sostanza psicoattiva adesso vediamo il prossimo relatore è il dottor Lafranchi Alberto Lafranchi specialista in radiodiagnostica e radioterapia che è sempre lavorato all'Istituto di Tumore di Milano e si è sempre interessato di medicina integrata nell'ambito dell'oncologia lascio quindi la parola al dottor Lafranchi grazie Mara per questo invito saluto tutti i presenti saluto il dottor Tamburini che ringrazio quindi io parlerò degli aspetti della in sostanza della fisiologia del perché questi prodotti questa cannabis può interagire con il nostro organismo partendo dal sistema endocannabinoide e quindi anche dalla risposta da stress per fare questo ho pensato di partire con una domanda così come aveva fatto McPortland cioè nasce prima la pianta di cannabis sul sistema endocannabinoide e questa è una una domanda a cui è stato risposto perché quando gli autori di scienziati che si sono occupati di cannabis hanno tracciato le vie molecolari del THC hanno scoperto una segnaletica molecolare fino a loro sconosciuta che è coinvolta nel regolamento di un'ampia gamma di funzioni biologiche e questi scienziati lo hanno chiamato sistema endocannabinoide abbreviato in ICS dalla pianta che ha portato alla sua individuazione cioè dalla cannabis il nome potrebbe quindi suggerire che la pianta sia venuta prima ma in realtà il dottor McFarlane medico tipo chimico ricercatore della cannabis fin dagli anni 80 confrontando la genetica dei recitori cannabinoidi in specie diverse ha dimostrato che il sistema endocannabinoide si sia evoluto in animali primitivi oltre 600 milioni di anni fa quindi questo è un sistema antico una segnaletica interna che esisteva molto prima della cannabis come pianta quando addirittura esisteva quando le forme di vita più complesse erano le studie allora ci si è chiesti del perché esiste questo sistema endocannabinoide il sistema endocannabinoide è presente infatti nei pesci nei reti nei verdi nelle sanguissughe negli anfibi negli uccelli e naturalmente in tutti i maluccelli non è presente negli insetti vista questa lunga storia evolutiva gli scienziati hanno dedotto che il sistema endocannabinoide debba servire a funzioni importanti funzioni basilari alla fisiologia animale il sistema endocannabinoide è come parte essenziale della vita dell'adattamento ai cambiamenti ambientali è presente infatti dalle urocordate come di mare ai piccoli nematodi e in tutte le specie vertebrate e anche molte invertebrate questo sistema è dunque anche una parte essenziale del corpo umano ma che ruolo può avere questo sistema endocannabinoide perché esiste questo sistema avvia processi fisiologici che aiutano a controllare vari processi corporei come l'umore lo stress il sistema immunitario il sistema neurologico un sistema endocannabinoide stabile è considerato essenziale per mantenere una buona salute i cannabinoidi incoraggiano l'omeostasi in ogni livello biologico della vita quindi un equilibrio gli endocannabinoidi che cosa sono che cos'è un endocannabinoide da un punto di vista chimico gli endocannabinoidi sono degli ecosanoidi sono cioè degli acidi grassi con una catena di 20 atomi di carbone le due molecole endocannabinoidi meglio studiati sono chiamate anandamide abbreviato in A e A e due arachidonoidi glicerolo il 2-AG queste molecole sono state individuate l'anandamide nel 1992 da una collaborazione fra vari ricercatori quali ricordiamo William Devine Lume Hanus Roger Pertwee Raffaele Mekulam che hanno detto che questo cannabinoide endogeno endocannabinoide è una molecola che si lega agli stessi recettori del cervello che sono sensibili al pH C l'hanno chiamato anandamide hanno usato questo termine derivandolo dalla parola ananda cioè dal sanspito felicità beatitudine successivamente qualche anno dopo nel 95 1995 il gruppo di Raffaele Mekulan ha individuato anche il 2-AG cioè il 2-arachino e il glicerolo e questo cannabinoide si lega non solo ai recettori CB1 presenti prevalentemente nel cervello ma anche ad un tipo di recettori detti CB2 quale funzioni svolgono questi endocannabinoidi queste molecole sono sintetizzate all'occorrenza questo è un punto molto interessante cioè vengono sintetizzati quando servono derivano dall'acido arachidonico nella membrana cellulare e hanno un effetto locale e una breve biodisponibilità quindi durano poco nel tempo vengono infatti rapidamente degradati da enzimi specifici per gli endocannabinoidi detti acido grasso amminidrolasi FAH e da monocil glicerolo lipasi MAGL la dottoressa Mazzuda nel 1990 divulgò la notizia di aver clonato con successo il recettore sensitivo alla cassa di averlo chiamato con l'acronimo di CB1 quindi abbiamo delle sostanze attive come l'anandamide e il 2-AG e abbiamo dei recettori dove queste sostanze si attaccano e sono i CB1 e i CB2 identificati poi successivamente la localizzazione dei recettori CB2 sono principalmente espressi ad alta densità sulle cellule del sistema immunitario compresi macrofici mastociti la milza nel sistema nervoso centrale si trovano principalmente nel midollo spinale la stimolazione di questi recettori CB2 sembra essere responsabile principalmente dell'azione antinfiammatoria immunomodellatrice dei cannabinoidi i recettori CD1 invece sono molto più espressi quali sono quali funzioni svolgono questi questi endocannabinoidi gli endocannabinoidi sono le molecole che il nostro corpo produce attivano una volta che sono prodotti attivi nei recettori sono presenti in tutto il corpo come nel cervello negli organi nei tessuti connettivi nelle ghiandole nelle cellule immunitarie fra i loro scopi vi è quello di minimizzare il dolore per comprendere le funzioni di questi recettori di questi endocannabinoidi facciamo un esempio molto semplice quello delle ferite noi ci facciamo una ferita nel caso di una ferita che cosa fanno questi cannabinoidi presenti che funzioni possono avere si liberano nell'area della ferita e la loro attivazione l'attivazione dei recettori da parte di questi endocannabinoidi riduce il rilascio di attivatori del tessuto ferito quindi servono a ridurre l'entità del dolore stabilizzare inoltre le molecole nervose per evitare che questi scarichino a frequenze eccessivamente alte anche questo naturalmente è una modalità per ridurre il dolore e impedire alle cellule immunitarie il rilascio di sostanze pro-infiammatorie quindi hanno questa triplice attività i recettori cannabinoidi funzionano un po' come strumenti per codificare cambiamenti sono come sono stati paragonati a dei piccoli scanner in grado di raccogliere segnali biochimici che fluiscono intorno alle cellule queste novità aprirono quindi le porte a quella che è stata definita dalla National Academy of Science alla decode del cervello fra il 1990 e il 2000 gli endocannabinoidi sono anche dei neuromodulatori permettendo la comunicazione e il coordinamento fra vari tipi di cellule ecco qua la sede dei recettori CB1 e CB2 in verde è la sede dei recettori CB1 in azzurro quella dei CB2 e dove sono i recettori CB1 dove li ritroviamo li ritroviamo soprattutto nel cervello in questo caso nella corteccia cerebrale nei gangli della base li ritroviamo nel quindi nel globus pallidus nella sostanza emigra nel nucleo codato nel pitame nei gangli della base hanno come attività i gangli della base sono sono hanno delle azioni sul movimento per quanto riguarda l'aspetto della corteccia cerebrale invece sono gli aspetti cognitivi che vengono che vengono si attivano insomma poi li troviamo nel cervelletto per la coordinazione motoria li troviamo nell'ipocampo dove hanno un'azione sulla memoria nell'ipotalamo l'appetito nella migdala le emozioni nella sostanza grigia acquirittale e quindi attorno agli acquidotti e qui hanno un'azione sul dolore ecco dove si trova dove non si trovano questi recettori questi recettori non si trovano nel midollo allungato e questo è molto interessante perché la parte del sistema nervoso ecco qua la parte del sistema nervoso che presiede alle funzioni del controllo della respirazione cardiovascolare non dovrebbe venire inibita dalle dosi di THC in quanto questi recettori qui sono poco presenti e quindi non dovremmo avere una depressione cardiorespiratoria usando queste sostanze chimiche di origine naturale come il THC poi i recettori CB1 sono stati identificati anche perifericamente quindi sono nei polmoni nel tegato nei regni nelle cellule dell'apparato reputitivo maschile e femminile e quando vengono prodotti questi endocannabidoidi come abbiamo detto vengono prodotti su richiesta su ordinazione d'acidi grassi in caso di necessità sia l'anandamide sia il 2G impattano l'organismo in modalità prevalentemente locali specifiche così almeno dice Meculan le loro azioni sono però ubiquitarie sono coinvolte nella gran parte dei sistemi fisiologici esaminati gli endocannabinoidi sono degli attori protagonisti della capacità di equilibrio biochimico multidimensionale conosciuto come come il neurologo e ricercatore sulla cannabis Ethan Rusto per primo ha ipotizzato una cosa molto interessante cioè che cosa accade in caso di deficienza clinica da endocannabinoidi e sembra che questo sia la base di alcune patologie note anche di difficile trattamento clinico come l'emicrania la fibromialgia l'infiammazione cronica dell'intestino e di un gruppo di altre condizioni che rispondono favorevolmente a terapie a base di cannabinoidi che cosa induce la stimolazione dei recettori CB1 con i cannabinoidi questa rende conto dei loro effetti uforizzanti ma anche della loro azione antiemetica della loro azione antiossidante ipotensiva immunosoppressiva antinfiammatoria analgesica antispastica che stimolano l'appetito a questo punto possiamo chiederci come funziona questo recettore la segnaletica funziona attraverso la cosiddetta segnaletica retrogade cioè funziona come un sistema di becchi inibitori questo significa che quando vengono stimolati dal THC o dagli endocannabinoidi questi recettori che abbiamo visto prima i CB1 e i CB2 scatenano a livello molecolare una cascata di cambiamenti biochimici che emette i freni a un'eccessiva attività fisiologica abbiamo fatto prima l'esempio della ferita cioè riduce un po' il dolore e cerca di favorire il recupero della lesione nello stesso modo sono stati fatti degli studi sulle patologie croniche sulle patologie croniche ossoarticolari dove un eccessivo dolore viene contenuto dall'uso di queste sostanze proprio per questa azione di frena di becche inibitorio gli endocannabinoidi sono gli unici neurotraspettitori che prendono parte della signaletica retrogasi è una forma di comunicazione intercellulare che è un po' vista al contrario cioè ovvero questa stimolazione parte dal neurone post-sinattico riduce la risposta immunitaria riduce le infiammazioni rilassa la muscolatura diminuisce la pressione arteriosa dilati bronchi e normalizza i nervi sovrastimolati come ad esempio nel dolore neuropatico e nell'epidestia il sistema immunitario umano in caso di infezione batterica o virale stimola ad esempio un incremento della temperatura corporea quando il quadro clinico migliora questa segnaletica endocannabinoide abbassa la reattività la febbre riduce la febbre e quindi ristabilisce l'omeostasi i cannabinoidi endogeni e anche quelli della pianta quindi sintetici sono antinfiammatori e letteralmente raffreddano se vogliamo dire usare questo termine raffreddano il corpo ma se il circuito di feedback è fuori controllo se il sistema immunitario riadisce in maniera eccessiva lo stress cronico confonde il proprio corpo con un corpo estraneo allora lo scenario è predisposto allo svilupparsi di una malattia autoimmune o di una patologia infiammatoria ecco questa è un po' una sintesi di quello che abbiamo detto cioè gli endocannabinoide è una famiglia di messaggeri lipidici vengono sintetizzati su richiesta agiscono come messaggeri retrogradi attivano i recitatori CB1 e CB2 inibiscono il rilascio di altri neurotransmettitori i due principali endocannabinoidi sono l'anandamide e il 2G e poi esistono degli enzimi in grado di trasportarli in grado di degradarli il microbiologo e attivista internazionale per la cannabis medicinale Robert Melamed descrive il sistema endocannabinoide come il mastro mediatore in continuo multitasking aggiungendo e raggiungendo la complessa rete di termostati molecolari che controllano il nostro ritmo fisiologico che cos'è la carenza clinica da endocannabinoidi si è quindi pensato cosa succede se ci fosse una carenza di endocannabinoidi in un soggetto la deficienza di endocannabinoidi può risultare da una riduzione del numero di recettori cannabinoidi oppure dalla diminuzione della concentrazione di anandamide e di 2G gli individui hanno livelli e sensibilità congenite differenti agli endocannabinoidi che siano la conseguenza di una dieta di scarsa qualità di mancanza di esercizio fisico di tossine dell'ambiente o fattori genetici i deficit da endocannabinoidi sono associati a una ridotta capacità o una totale incapacità all'adattarsi a stress di natura cronica un'esposizione prolungata allo stress esaurisce il tono della signaletica endocannabinoide e questo genera effetti sfavorevoli in una serie di processi fisiologici ora ci tengo a citare Maccarone e Mauro perché la scoperta del sistema endocannabinoide ha portato implicazioni per quasi ciascun'area della scienza medica inclusa la biologia riproduttiva il dottor Mauro Maccarone è un professore di biochimica e è uno dei massimi esperti in questo campo e descrive questo sistema come l'angelo guardiano della riproduzione ci tengo a parlare di questi aspetti perché questo sistema endocannabinoide ha anche questa importante funzione cioè la signaletica endocannabinoide si dimostra decisiva attraverso tutto il processo riproduttivo dei mammiferi dalla spermatogenesi alla fertilizzazione passando per il trasporto nell'ovidoto dello zigote nell'anninamento dell'embrione nell'utero nello sviluppo fetale persino per lo sviluppo del piccolo neonato i recettori in questo sistema proliferano nella placenta e facilitano il cosiddetto crostocco ovvero il botte risposta che esiste fra l'embrione e la macchina questo sistema esiste in così tante specie diverse ed è sopravvissuto a millenni di evoluzioni un malfunzionamento del sistema potrebbe risultare in problemi seri inclusi nelle donne una gravidanza etopica aborto anche l'allattamento è stimolato da questi recettori nella neuroscienziata israeliana Estratride dimostrò che il cosiddetto lei ha fatto tutti i lavori soprattutto sugli animali sui topi quindi questi topi cosiddetti know-out ovvero con il sistema endocannabinoide bloccato assomigliano a quei bambini che soffrono di ritardo di crescita statura ponderale senza recettori cannabinoidi i topi perdono di vitalità e muoiono prematuramente gli studi sull'uomo non sono ancora presenti però c'è questa ipotesi che questa assomiglianza tra questi topi che perdono vitalità e muoiono e i bambini che soffrono di ritardo di statura ponderale in conclusione questo sistema endocannabinoide è una parte essenziale del nostro corpo avvia processi fisiologici che aiutano a controllare vari processi corporei come l'umore lo stress il sistema immunitario e il sistema neurologico un sistema endocannabinoide stabile e essenziale per mantenere una buona salute e l'omeostesi ho concluso grazie dottor Lafranchi grazie Alberto è stata molto chiara come presentazione e si capisce da questa presentazione dalla presentazione del sistema endocannabinoide come e perché la terapia con la base di cannabis può avere così tante potenzialità non solo per quanto riguarda la terapia del dolore che è una delle più studiate ma per tutte quelle terapie neurologiche ad esempio come l'epilessia come la sindrome di Tore come la spasticità motoria oppure altre terapie come può essere legate all'anoressia e ultimamente al colpoma diciamo che il sistema endocannabinoide è dislocato in tutto il corpo e per cui l'effetto biologico ce l'abbiamo su tanti aspetti e su tanti motivi però il concetto principale che ci è trasmesso è che il sistema endocannabinoide funziona come se fosse un vero e proprio relais cioè ci permette di sopravvivere alla nostra risposta di sopravvivenza cioè ci evita di morire tra virgolette per sopravvivere ovvero quando una risposta di sopravvivenza legata al sistema adrenergico dovesse diventare troppo troppo importante troppo pericolosa per il mantenimento del nostro sistema vitale interviene il sistema endocannabinoide che abbassa le risposte permettendoci così di ritrovare il nostro equilibrio fisiologico ricordo perché ho visto che ci sono mi è stato detto che ci sono state alzate le mani le manine per domande che le domande durante le relazioni non vengono trasmesse e ricordo a tutti per piacere di scriverle nella nella barra inferiore dove c'è scritto domande e risposte perché verranno poi lette e dibattute nella nella parte finale della dell'incontro durante le discussioni e quando traeremo le conclusioni allora ehm il dottor Mestiari è eh farmacista eh doveva essere eh l'ultimo intervento che sulle eh sulla base eh delle direttive digitative eh che il dottor Notaro ci ci spiegava eh il eh dottor Meschiari invece ci eh spiega eh dal punto di vista pratico come si compila come deve essere eh la ricetta eh della che arriva alla farmacista e che arriva in farmacia di quello che è la cannabis terapeutica non solo ma ci spiegherà quali sono le preparazioni che dalla pianta della cannabis noi eh possiamo fare e possiamo ottenere tramite una ricetta eh galenica magistrale eh confermi il dottor Messiani assolutamente assolutamente di eh quali tipi di prodotti possiamo avere e come deve essere compilata la ricetta ricordo che ci sono due modalità importanti una che è a carico completa del cittadino che qualsiasi eh medico può prescrivere chiaramente eh qui nasce quella parte di cui parleremo eh la prossima volta che il medico deve sapere quali sono le caratteristiche del prodotto e quindi la terapia la modalità di assunzione del paziente con cui il paziente lo deve premere eccetera quindi una modalità estremamente una conoscenza clinica e invece un secondo percorso e questo è collegato direttamente a livello regionale della rimborsabilità della cannabis terapeutica da parte delle regioni lascio la parola al dottor Meschiaro e l'immagini perché vi farà vedere eh praticamente come sono le ricette esattamente grazie mille alla dottoressa Ramplu adesso passavo direttamente la condivisione delle slide ecco qui chiedo anche io gentilmente conferma per la corretta visione delle slide allora benissimo oggi parliamo essenzialmente delle regole prescrittive che sono necessarie per prescrivere preparati galenici a base di cannabis ora vorrei cominciare descrivendo che cos'è un preparato galenico probabilmente avete già questa informazione ma insomma è giusto giusto ripeterlo i preparati galenici sono medicinali che vengono allestiti da parte del farmacista all'interno del proprio laboratorio galenico che vengono suddivisi diciamo in due grandi famiglie i preparati magistrali e i preparati officinali i preparati magistrali sono su indicazione del medico del magister in questo caso che ci indica sostanzialmente i componenti da utilizzare e anche i dosaggi in alcuni casi come per esempio anche nei preparati a base di cannabis terapeutica anche il metodo di preparazione ora i preparati officinali invece sono formulazioni che seguono la farmacopea per noi in assoluto il testo di riferimento per tutti i farmacisti ora sostanzialmente è un testo all'interno del quale sono contenuti delle formulazioni standard che seguono delle precise linee guida sia per quello che riguarda insomma i dosaggi e del preparato stesso che anche per appunto il metodo preparativo ora i preparati a base di cannabis che vengono allestiti in farmacia sono preparati come diceva giustamente la dottoressa Ramplu galenici magistrali quindi dove il medico deve indicare tutto quanto fondamentalmente ora quali sono i preparati di cannabis più utilizzati qua ci terrei a fornirvi una panoramica di che cosa si può fare essenzialmente con la cannabis e quali sono i medicinali poi più utilizzati nel trattamento delle diverse patologie appunto che la cannabis può trattare sicuramente comincerei con gli estratti in olio ora dovete sapere che i cannabinoidi sono principi attivi principalmente anzi essenzialmente di natura lipofila e che quindi si sciolgono in maniera ottimale all'interno di solventi oleosi proprio per questo gli estratti in olio sono i più utilizzati è molto efficace anche l'estrazione alcolica vi posso dire che spesso viene utilizzata per una questione di praticità ora l'estratto alcolico nel caso degli estratti in olio chiaramente viene fatto poi di sciogliere e viene evaporato completamente ottenendo così alla fine un olio che contiene i principi attivi della cannabis principalmente THC e CBD la sfida per il farmacista sempre è anche mantenere più inalterata possibile la frazione terpenica una piccola osservazione importante per descrivervi i vari preparati che vengono utilizzati i principi attivi della cannabis vengono prodotti in forma acida nella pianta e quindi non riescono ad essere attivi così come tali se un paziente ingerisse un'infioriscenza di cannabis come tale probabilmente non percepirebbe alcun effetto ora per poter essere attivati devono passare dalla forma acida alla forma neutra e quindi richiedono un processo di riscaldamento quindi sostanzialmente sia per quello che riguarda la preparazione degli estratti in olio che per le capsule decarboxilate che vedremo tra poco e anche per le preparazioni topiche la cannabis viene precedentemente passata in stufa per poter essere così scaldata perdere quindi nei confronti dei principi attivi il gruppo acido diventando così il vero cannabinoide attivo che vogliamo utilizzare in terapia ora gli estratti in olio mi permetto di dire che sono anche assolutamente ben tollerati da parte del paziente e vengono utilizzati principalmente per un assorbimento per una somministrazione sublinguale piccolo commento sull'assorbimento che vi ho fatto per ogni tipo di preparato giusto per darvi anche un'idea di quello che si ottiene poi effettivamente come effetto sul paziente gli estratti in olio hanno un assorbimento rapido se sublinguale o lento nel caso venga ingerito la differenza appunto è assolutamente rilevante in un caso l'effetto compare in 20 minuti nell'altro caso compare in due ore questo è un in realtà vi dico principalmente quando il paziente assume un estratto in olio la prima volta tende a ingerire l'estratto proprio perché lo posiziona sotto la lingua e tende a salivare molto avendo qualcosa di diverso in bocca per la prima volta in questo caso salivando tendenzialmente lo manda giù quindi in una prima fase chiaramente è importante insomma fare porre poi soprattutto al paziente attenzione sulla questione del sublinguale sotto il profilo invece del medico vi posso dire che prescrivere preparati troppo poco concentrati e che quindi hanno dei quantitativi di olio molto grandi costringe il paziente ad assumere tante gocce e ora se noi facciamo ad assumere a un paziente 15 gocce è chiaro che queste gocce posizionate sotto la lingua non riusciranno mai a restare quindi la sfida è anche trovare la concentrazione giusta per permettere al paziente di avere un effetto terapeutico ma di non incorrere appunto in questo problema delle troppe gocce ora un altro preparato molto utilizzato sono le capsule decarbossilate in questo caso la cannabis dopo il passaggio in stufa viene distribuita all'interno di capsule gastroresistenti per evitare qualsiasi tipo di interazione con la appunto situazione acida che troviamo all'interno dello stomaco ora spesso per quanto riguarda soprattutto i preparati con dosaggi molto bassi vengono utilizzati degli eccipienti come le maltodestrine in questo caso per aiutare a distribuire in maniera omogenea la cannabis all'interno delle capsule e anche per riempirle adeguatamente in questo caso essendo un preparato che viene ingerito e chiaramente è tutto influenzato dalla digestione l'effetto compare dopo due ore altro preparato molto utilizzato sono le cartine che conoscete di certo perfettamente precursori delle capsule appunto si tratta semplicemente di fogli di carta oleata contenenti quantitativi determinati di sostanza o principio attivo in questo caso di infiorescenza ora in questo caso non viene fatto il passaggio in stufa perché le cartine hanno principalmente due utilizzi uno per infuso che però è quello che noi sconsigliamo sempre fortemente vi dicevo prima che i principi attivi della cannabis sono di natura lipofila ora se noi facciamo un infuso che nonostante questo è stato un preparato molto consigliato dal ministero fino a poco tempo fa non andiamo realmente a estrarre niente perché andiamo chiaramente in acqua c'è chi suggerisce di aggiungere un po' di latte nel corso della preparazione per aggiungere una frazione lipofila vero è che comunque non è un processo standard dove rilasciamo tutto in mano al paziente fondamentalmente e dove otteniamo rese di estrazione basse e diverse ogni volta l'utilizzo invece più che va per la maggiore in assoluto per quello che riguarda le cartine è per utilizzo inalatorio quando parliamo di utilizzo inalatorio ovviamente la cannabis non viene mai fumata e insomma principalmente ovviamente per una questione di salute i prodotti grezzi di combustione sono altamente tossici lo sappiamo perfettamente ma anche per una questione di resa proprio perché pensate che con la combustione viene bruciato ed eliminato circa il 40% di tutto quello che c'è nella pianta viene invece utilizzato un apposito dispositivo che si chiama vaporizzatore che non è altro che un dispositivo che riscalda le infiorescenze non portandole a temperatura di combustione ma permettendo di creare vapori vapori che poi il paziente inala e che contengono i principi attivi in questo caso essendo per via inalatoria l'assolvimento è assolutamente rapidissimo e anche qui nei primi 20 minuti abbiamo un picco ematico ora ultime non per importanza perché il CBD e anche il THC mi permetto di dire hanno delle grandissime potenzialità in campo dermatologico sono le preparazioni topiche in questo caso l'estratto oleoso o il CBD in cristalli proprio perché in particolare il CBD principiativo e non stupefacente della cannabis si può ritrovare anche come materia prima in farmacia sotto forma di cristalli in questo caso che possono essere di natura estrattiva o sintetica a seconda delle necessità comunque l'estratto oleoso o il CBD in cristalli viene disciolto all'interno di delle basi a piacimento ora queste basi possono essere più grasse diciamo o meno grasse a seconda della cute che andiamo a trattare e anche della patologia per esempio si utilizzano nel contesto della dermatite e nel contesto della psioriasi ma le pelli hanno comunque esigenze diverse quindi si utilizzano basi essenzialmente olio in acqua o acqua in olio a seconda di che cute andiamo appunto a trattare ora l'utilizzo della cannabis come dicevo in particolare del CBD a uso dermatologico è veramente molto promettente ora chiaramente l'assorbimento in questo caso è limitato alla zona di applicazione salvo chiaramente l'utilizzo di preparazioni transdermiche dove in questo caso puntiamo a far arrivare il principio attivo nel circolo sistemico ora come potrete immaginare altrimenti come ce l'hanno spiegato prima i colleghi ma sicuramente potrete immaginare anche voi sono tantissime le varietà di cannabis che si possono prescrivere io ci tenevo a semplificare in questo caso per darvi uno schema che sicuramente vi può aiutare ad orientarvi nella prescrizione quando parliamo di varietà di cannabis essenzialmente vengono racchiusi all'interno di tre diversi grandi gruppi definiamoli così le varietà di cannabis che hanno un alto contenuto di THC e solitamente hanno un contenuto in CBD inferiore all'1% le varietà che tendono ad avere uno stesso quantitativo di THC e di CBD solitamente il rapporto quasi 1 a 1 e le varietà che hanno un alto tenore di CBD quindi con THC tendenzialmente inferiore all'1% partendo dalla prima la varietà classica che troviamo appunto è la Bedrocan Bedrocan che non è altro che una varietà di cannabis prodotta dall'omonima azienda olandese che contiene circa il 22% in THC e meno dell'1% in CBD quando invece citiamo il caso dello stesso tenore tra i due appunto e la classica varietà che andiamo a vedere più frequentemente in Italia prescritta è l'FM2 ovvero quella prodotta in Italia dallo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze o il Bediol sempre prodotta dall'azienda Bedrocan spesso si utilizzano in terapia questo tipo si utilizza in terapia questo tipo di varietà proprio perché il CBD essenzialmente va a contrastare una parte degli effetti collaterali del THC e quindi soprattutto in una fase iniziale è particolarmente utile ora per l'alto tenore di CBD la varietà tipica utilizzata è il Bedrolyte che ha il 9% in CBD in questo caso e meno dell'1% in THC ci terrei a fare anche qui una nota è importante notare come il Bedrolyte abbia un quantitativo veramente basso di THC ma sia nonostante questo considerata uno stupefacente questo avviene essenzialmente per una ragione in Italia è considerata canapa light sicuramente avete sentito il termine e tutta la canapa fondamentalmente la cannabis che ha un contenuto in THC inferiore allo 0,2% ora in questo caso il Bedrolyte contenendo l'1% in THC ha veramente un quantitativo basso ma nonostante questo è considerato stupefacente qua potete notare nel dettaglio quelle che sono le varietà più prescritte e che sono prescrivibili attualmente in Italia tra le diverse aziende chiaramente produttrici trovate in alto quelle prodotte dall'azienda Bedrocan dove vedete tutti i diversi profili della pianta e qui è molto interessante anche vedere l'ultima colonna in fondo la disponibilità in farmacia che è un punto che sottolineavamo prima con la dottoressa Ramplu non tutte sono facilmente reperibili però comunque qui ho deciso di lasciarvi uno schema che vi può sicuramente aiutare ad orientarvi FM1 e FM2 sono le varietà prodotte appunto dallo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze mentre invece Pedanius 22.1 e Pedanius 8.8 sono prescritte e sono chiedo scusa prodotte dall'azienda canadese Aurora Cannabis passiamo ora alla ricetta bianca dicevamo prima partiamo con una domanda la cannabis si può prescrivere? a pagamento la cannabis medica può essere prescritta in tutte le regioni d'Italia essenzialmente da qualunque medico iscritto regolarmente all'ordine e abilitato alla professione ora i medicinali a base di cannabis sono sempre da considerarsi almeno sotto il profilo legislativo come un trattamento sintomatico a supporto dei trattamenti standard e ora i preparati in particolare magistrali a base di cannabis sono considerati off label ovvero vengono prescritti perché non ci sono farmaci presenti sul mercato che possono andare a simularli come sapete c'è Pidiolex sul mercato o se lo citiamo in questo momento è il primo farmaco abilitato appunto e per poter essere proprio definito come farmaco a base di CBD in questo caso o è presente anche Sativex e un altro farmaco che contiene sia CBD che THC ma in questo caso sono preparati che non contengono la totalità delle molecole che sono presenti nella cannabis come dicevamo prima parlavamo di THC e CBD ma ci sono anche tante sostanze particolarmente utili ora in questo senso per poter prescrivere un estratto totale definiamolo così di cannabis è necessario definirlo come off-label quindi non presente sul mercato in questo caso segue la legge 94-98 che è la legge di Bella sostanzialmente che prevede quindi per la prescrizione la presenza di letteratura scientifica a supporto prima di tutto la firma del consenso informato documento che di certo conoscete che informa il paziente sui rischi e sui benefici del trattamento e il seguire i formalismi necessari per la compilazione della ricetta con una particolare nota riguardante la privacy del paziente non si può indicare in questo caso le generalità del paziente ma vanno sostituite con un codice alfanumerico di cui poi il medico dovrà tenere traccia i formalismi della ricetta a pagamento li vedete elencati qua in realtà molto semplicemente sono data nome e cognome e titolo del medico indirizzo dell'ambulatorio telefono il codice alfanumerico o numerico ripeto non sono ammessi nomi e cognome e codice fiscale la varietà di cannabis da utilizzarsi la forma farmaceutica come abbiamo visto prima ce ne sono diverse il numero di dosi e di quantità la posiologia che non è obbligatoria ma è sempre fortemente consigliata anche come traccia per il paziente e la motivazione della prescrizione in questo caso come per esempio farmaco non in commercio o terapie convenzionali non efficaci concludendo ovviamente con timbro e firma del medico la ricetta in quanto non ripetibile ha validità di 30 giorni e il farmacista ha l'obbligo di consegnare una copia timbrata datata e firmata al paziente in questo caso c'è anche tutta la parte dei doveri del farmacista nei confronti dell'ausil di riferimento dove però magari adesso non ci stiamo a dilungare ci tenevo a farvi vedere un facsibile per darvi un'idea pratica di come si può effettivamente prescrivere sia non compilato che compilato allora vedete che qua ci sono diversi campi sono banalmente quelli che abbiamo citato poco fa in questo caso vediamo la ricetta compilata in questo caso vedete il nome in alto il nostro fatidico Mario Rossi che viene utilizzato ad esempio il titolo l'indirizzo dell'ambulatorio il telefono piccola nota sul codice alfanumerico che vedete qui utile per tutelare la privacy del paziente e poi veniamo alla prescrizione motivo per il quale poi ci tenevo a farvi vedere il facsimile qui leggiamo cannabis floss 22% THC meno 1% CBD bedrocan 5 grammi in questo caso abbiamo indicato il tipo di sostanza cannabis floss quindi infiorescenze di cannabis 22% in THC meno dell'1% in CBD quindi rientra all'interno delle varietà ad alto contenuto di THC bedrocan che è la varietà che il medico preferisce sia utilizzata all'interno del preparato 5 grammi come quantità olio di oliva FU 50 ml non è altro che la forma farmaceutica in alternativa si può utilizzare estratto oleoso in questo caso è indicata la dicitura FSA fai secondo arte senza starci a dilungare su tutti i diversi metodi preparativi che vengono utilizzati per gli estratti di cannabis il medico ha possibilità di scrivere fai secondo arte come di indicare la metodica che preferisce in questo caso dopodiché si passa alla somministrazione in questo caso vedete somministrare 10 gocce al giorno ogni 4 ore per via orale preferibilmente sublinguale ora in più in basso trovate la motivazione della prescrizione alcune note timbro e firma osservazioni importanti torneremo anche velocemente sulla ricetta tra poco la cannabis è una pianta quindi essendo una pianta ha una variabilità intrinseca che dipende dalla genetica essenzialmente della pianta abbiamo la possibilità nella fase di coltivazione di creare piante davvero identiche utilizzando le talè quindi andando essenzialmente a recidere un ramo della pianta ripiantandolo e facendo crescere così un clone estremamente banalizzato detto così ma è giusto per farvi capire il concetto detto questo però ci sarà sempre una minima variabilità tanto che i produttori stessi dichiarano non un quantitativo in THC preciso ma un range che viene rispettato citavamo l'esempio di Bedrocan prima che ha un quantitativo in THC in questo caso dichiarato del 22% e che in realtà è tra il 18 e il 22% quindi non ha una percentuale precisa quindi di conseguenza un'osservazione importante è che se non vengono prescritti da parte del medico i milligrammi di THC che sono da assumersi chiaramente si incorre in una variabilità ancora più rilevante perché oltre alla variabilità della pianta si incorre anche nella variabilità del metodo preparativo della farmacia che chiaramente non estrarrà sempre lo stesso quantitativo di principio attivo ora ogni preparato secondo la legislazione deve essere accompagnato e fornito al paziente con un'analisi di fianco certificata che vada a determinare quant'è il quantitativo di principio attivo all'interno appunto del medicinale in questo caso una cosa molto intelligente è richiedere alla farmacia la concentrazione in milligrammi goccia in questo modo quando ci troveremo nella situazione precedente a somministrare dieci gocce al giorno potremmo anziché inserire dieci gocce il quantitativo in milligrammi di THC e da lì poi sarà facilmente sarà facile poi andare a individuare la quantità corretta e il numero di gocce anche se la quantità di principi attivi nel preparato cambia concluderei dicendo questa parte di osservazioni dicendo che non esiste un preparato in assoluto meglio degli altri è chiaro che ogni patologia trattabile con cannabis predilige l'utilizzo di un preparato rispetto a un altro per tendenzialmente tutte le patologie come per esempio la cefalea insomma faccio un esempio molto semplice comunque con dolore acuto in questo caso si preferirà un assorbimento rapido per andare a contrastare questo tipo di dolore mentre invece nel caso di un dolore cronico che prosegue nell'arco di tutta la giornata potremmo pensare alle preparazioni in olio come per esempio le capsule insomma poi chiaramente lì è ovviamente scelta del medico passiamo alla ricetta a carico del servizio sanitario nazionale inizierei dicendo quali sono le patologie per le quali la cannabis terapeutica è rimborsata in particolare in Lombardia primo fra tutti sicuramente il dolore cronico dichiarato in due forme lo vedete nel primo punto e nel terzo punto il dolore cronico moderato severo refrattario alle terapie farmacologiche attualmente disponibili così come il dolore cronico con particolare riferimento al dolore neurogeno in cui il trattamento con antinfiammatori non steroidei farmaci cortisonici o opioidi sia rivelato inefficace oltre a questo la cannabis è rimborsata per tutte le spasticità e l'analgesia in patologie che implicano spasticità associate al dolore di cui un esempio classico è la sclerosi multipli viene molto utilizzato anche come anticinetosico e antiemetico per trattare la nausea provocata da alcuni trattamenti farmacologici come la chemioterapia o le terapie per l'HIV viene utilizzato come stimolante dell'appetito nell'H che sia ma anche nell'anoressia come nelle patologie che implicano una perdita dell'appetito per esempio come in pazienti oncologici viene utilizzato per il suo effetto ipotensivo nel trattamento del glaucoma anche in questo caso è rimborsato e per la riduzione dei movimenti involontari del corpo e facciali come la sindrome di Tourette quali sono i presupposti per poter partire con la prescrizione in questo caso primo punto è una questione quasi logistica potremmo definirla il paziente deve avere l'esenzione se il paziente non ha l'esenzione non può avere accesso al farmaco quindi deve assicurarsi di averla ottenuta prima di anche richiedere la prescrizione è necessaria la firma del consenso informato e come anticipava la dottoressa Rampluprima è necessaria la compilazione di un piano terapeutico da uno specialista ospedaliero autorizzato non stiamo a elencarle tutte per non tediarvi comunque qua notate quelle che ci sono da neurologia fino a medicina interna arrivando anche a reumatologia ed ematologia insomma sono tanti professionisti autorizzati a redare un piano terapeutico con validità massima di sei mesi oltre a questo in particolare per la Lombardia lo specialista deve rilasciare la prima ricetta che poi può essere seguita da quella del medico di famiglia quali sono i formalismi della ricetta a carico del servizio sanitario nazionale pressoché gli stessi della ricetta bianca se non con qualche giustamente accortezza bisogna utilizzare chiaramente la ricetta rossa cartacea e in questo caso le varietà di cannabis da utilizzarsi sono una serie di quelle che sono autorizzate e sono tutte quelle che abbiamo visto prima tra i produttori olandesi canadesi e Italia la forma farmaceutica vedremo tra poco non tutte le forme farmaceutiche sono riborsate solo alcune la posologia che ricordiamo non è obbligatoria ma è fortemente consigliata anche in questo caso io faccio la specifica controllate sempre anche con l'aslo di riferimento con la farmacia insomma che sia tutto a posto perché la legislazione tende a cambiare molto tra regione e regione e in alcuni casi anche tra ausl e ausl e il numero dosi e di quantità segue lo stesso identico ragionamento quali sono gli ulteriori doveri di specialista e medico di famiglia in questo caso sia lo specialista che il medico di famiglia devono compilare la scheda di raccolta dati dell'istituto superiore di sanità dei pazienti trattati con cannabis sia che essa sia fatta via web o tramite raccolta dati cartacea in questo caso entrambi sono tenuti a segnalare eventuali reazioni avverse con apposita scheda e mentre lo specialista deve stabilire e documentare i follow up necessari per il monitoraggio del paziente chiaramente il medico di medicina generale e il medico di famiglia proseguirà poi con la compilazione della ricetta non ripetibile ssn cartacea riferita a massimo 30 giorni di terapia del piano terapeutico quali sono i preparati e le varietà che vengono rimborsate dal servizio sanitario nazionale in lombardia olio gli estratti oleosi sia per via orale che per via sublinguale capsule apribili contenenti polvere micronizzata per decozione per via orale decotto o infuso in questo caso e come dicevamo prima le cartine che poi vengono anche assimilate alle capsule apribili quando poi l'utilizzo è inalatorio e quindi di per sé sia la cartina che la capsula fungono sostanzialmente solo da contenitori da dover essere poi aperti nella sezione apposita chiaramente del vaporizzatore il macchinario che dicevamo prima viene utilizzato per scaldare l'infiorescenza sotto la temperatura di combustione produrre vapori che poi vengono inalati dal paziente in lombardia sono prescrivibili e rimborsate tutte le varietà precedentemente descritte io vi ringrazio per l'attenzione spero che sia stato tutto chiaro e ovviamente resto a disposizione per eventuali domande grazie 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 dottor Meschiari devo dire che è stato chiarissimo penso se non dovessi essere stato sufficientemente chiaro abbiamo sempre la possibilità di fare domande è rimasto qualche cosa e qualche piccolo particolare di dubbio benissimo c'è il c'è il dottor notaro qui presente che prima era avuto un'emergenza quindi il dottor notaro che è responsabile della terapia del dolore del dipartimento di neuroscienze dell'ospedale di guarda ci parlerà di quella parte legislativa importantissima anche perché è sempre un po' in cambiamento da cui poi il dottor Meschiari ha ricavato la parte pratica di come si compilano le ricette passo la parola e io mi raccomando qualsiasi dubbio in tutte le relazioni precedenti fate le domande che così poi abbiamo la possibilità di discutere insieme alla fine a te bene grazie buongiorno a tutti io mi scuso per il ritardo ma ho avuto un inconveniente siccome sono stavo gestendo un'emergenza una situazione clinica mi è dispiaciuto per il problema sull'organizzazione però alla fine come dire non tutto il male viene per nuocere probabilmente può essere anche un vantaggio nel senso che ho ascoltato le relazioni che mi hanno preceduto nella scaletta e probabilmente l'argomento che io Andrea ad affrontare che poteva essere l'inizio ma può essere anche un'ottima sintesi anche di alcune criticità io vi devo parlare in apparenza di un argomento come dire noioso che è la normativa però in realtà poi vedete che vi rassume tutta una serie di aspetti pratici molto importanti fondamentali per quanto riguarda diciamo tutta la parte eccomi qua sono qui per quanto riguarda tutta la parte di prescrizione di efficacia e tutte le criticità in essere io dirigo il centro di terapia dolore dell'ospedale di Niguarda che peraltro è anche diciamo il centro di riferimento in una logica di hub e spoco diciamo il hub per quanto riguarda la città di Milano è uno dei quattro hub di riferimento per l'intera regione Lombardia andiamo dall'aspetto normativo se fossimo in un'aula io ahimè soffro molto la mancanza di poterci stare in un'aula insieme avrei detto la prima questione chi di voi ha idee da quanto tempo si possono utilizzare i farmaci a derivate di cannabis questa ve la faccio lo stesso anche se non vedo delle risposte in realtà il nostro paese io quindi vi farò un escursus molto semplice alcuni concetti sono stati già detti altri li soffermerò anche perché avete le domande mi sono tirate le orecchie che assolutamente le risposte alle domande per obbligare cm deve essere chiaramente presenti nelle presentazioni allora la prima risposta è 2015 2014 2013 in realtà fin dal 2007 non so chi di voi lo sapesse in Italia si possono prescrivere dei farmaci a base di cannabis allora erano ovviamente tutti quelli sintetici in particolare senza fare ma erano gli unici quindi non facciamo un torto a nessuno erano il nabilone il don nabinoli qual è la novità di questo primo atto legislativo un atto legislativo nazionale quindi legge di stato vengono inseriti in tale sostanza quindi a derivata di cannabis per la prima volta nella tabella 2 sembra una roba noiosissima nella tabella 2 sezione B che vuol dire che vengono previsti nei farmaci da poter utilizzare e qui cominciamo già con i primi alert che poi sembra un aspetto normativo ma poi vedrete se avremo tempo e avete voglia di far domande quindi vedremo con gli altri speaker e il problema è un problema vero e proprio perché la chiave di dire è consentito già nel 2007 l'uso terapeutico di proprietà medicinale a base di sostanze superfacenti psicotope debitamente prescritte secondo la necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto già qui si introduce in questo aspetto normativo una problematica che poi vedremo di cui io sono abbastanza ossessionato da questo aspetto cioè la valutazione è contesto paziente vedete che a un certo punto le norme saranno e ve lo anticipo questo quindi vi invito a stare attenti cioè diventa quasi soggetto paziente contesto malato quindi da una medicina molto rigida anche questo è interessante cioè da una medicina molto rigida e bm diciamo di evidenza certa su grandissimi numeri ci troveremo poi a gestire dei pazienti che hanno una serie di farmaci di cui una parte come questa vedete spesso è legata a singolo soggetto e quindi costringe noi operatori a un lavoro di una dimensione assolutamente diversa di cui non eravamo abituati c'è venuto un alert diciamo purtroppo per tutto quello che è successo e sta succedendo per la pandemia annotate questo punto quindi successivamente quindi da 2007 nel 2013 quindi andiamo a ciò che oggi possiamo fare in qualche modo quando vengono ulteriormente diciamo messi valorizzati l'utilizzo di queste sostanze e si cominciano entrano nelle tabelle quella che allora erano solo i prodotti sintetici entrano anche diciamo i derivati della pianta cioè quello che prima evidentemente chi mi ha preceduto vi stava spiegando come ricettare quindi vengono inseriti nella corretta tabella 1 e tabella 2 che sembra anche che è una cosa negliosissima ma è la classificazione legale fatta per l'azione dei farmaci e quindi classifica i THC e i dolori derivati e quindi consente l'utilizzo delle preparazioni degli estratti della cannabis quindi questo è l'atto passaggio successivo 2007 si introduce il principio 2013 e tutte le successive normative viene in qualche modo acclarato che si può si possono utilizzare queste sostanze questo vedremo come e dove è l'altro aspetto la normativa come vedete a un certo punto e quindi questa è un'altra criticità quotidiana o che chi di voi ha già utilizzato questi farmaci queste sostanze scusate sa a un certo punto seguiamo la normativa dice bene ho introdotto il principio ho allargato successivamente qualche anno dopo quindi l'utilizzo degli estratti il terzo punto chi legifera dice beh ma c'è il problema il problema come garantire il prodotto qui a un certo punto è un passaggio chiave nel 2014 esattamente per i più attenti 18 settembre si fa un accordo tra il ministero della salute e il ministero della difesa in cui si decide che sarà lo stabilamento militare chimico farmaceutico di Firenze a produrre questi derivati per soddisfare il bisogno della popolazione anche lì era un calcolo potenziale perché non si sapeva in realtà quanto sarebbe stata la domanda ma anche secondo me c'è una criticità di fondo che tutti sapevamo in realtà c'è un dato di fatto non sappiamo bene poi l'efficacia e in che misura di queste sostanze quindi abbiamo non è una scusante di sistema che sto facendo però è un dato sto facendo un escurso mi preoccupo di produrre e quindi incarica l'Istituto farmaceutico di Firenze a produrre queste sostanze successivamente addirittura se vedete queste non vi ho riportato le mie impressioni ho trascritto esattamente dalla normativa tutto quello che vedete non sono le mie impressioni tanto una parte finale che poi vedrete però è esattamente la norma e non ci ho aggiunto nulla di mio vedete identifica anche una quantità potenziale di necessità di sostanze disponibili e successivamente c'è un ulteriore sviluppo che prevede la norma anche la produzione in questo è interessato anche il Ministero dell'Agricoltura e andiamo poi ai giorni nostri la produzione definisce come altri soggetti oltre all'Istituto Militare Farmaceutico di Firenze possono produrre rispettando determinate caratteristiche molto rigide produrre la carne per finalità ad uso terapeutico la filiera se volete la scusante o il grazie a che cosa da un punto di vista normativo è questa parolina qui che c'era già nel 90 in cui si dice che il Ministero della Sanità può autorizzare istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini di ricerca alla coltivazione delle piante sopraindicata per scopi scientifici sperimentali o didattici grazie a questa frase chiave è iniziata tutta la filiera quindi lo Stato ha deciso di produrre in accordo con il Ministero della Difesa e poi successivamente ha autorizzato anche a terzi di poter produrre garantindo quindi fare i cloni come si diceva prima i collegano riuscire a produrre sempre per garantire una stessa quantità di concentrazione di THC e CBD quindi lo stesso tipo di pianta se voi andate indietro negli anni o chi di voi magari è un po' meno giovane come me sa benissimo che la dinamica nel 2014 si è stato anche un grosso dibattito pubblico dell'accordo Ministero della Salute e Ministero della Difesa come c'è cosa c'entrano i due ma perché questa logica di indicazione normativa voleva e vuole in qualche modo evitare o controllare che i pazienti a torto ragione spesso secondo me a torto potenzialmente rincorrono dei mercati non leciti quindi questo nel legislatore era un punto esatto di cercare di controllare anche un mercato non lecito e di uso di queste sostanze o presunti a tali sostanze perché in realtà non sappiamo bene a volte cosa diamo in prodotti che ben concentrati e si figurano in un mercato parallelo andiamo avanti la normativa poi dice anche questo è interessante lo ripeto perché spesso è una tematica che affrontiamo sempre nei dibattiti noi grazie all'ordine che ringrazio per la puntuale presenza anche di coinvolgermi in queste tematiche che avevamo già fatto proprio nella fase prima che esplodessi il covid un altro incontro molto interessante su queste tematiche vedo che poi gli argomenti diciamo è un argomento interessante ma certi concetti è importante ripeterli perché poi di fatto nella filiera tra diciamo specialista e territorio altri specialisti in generale tutta la filiera di noi colleghi che curiamo questi monati e poi ogni tanto c'è qua che salta fuori un buco di conoscenza uno non lo sa credo che io vivo di più queste problematiche non è un torto però forse ripetelo aiuta tutti a lavorare meglio allora innanzitutto la cannabis non è una terapia propriamente detta questo è la passaggio questo serve a noi a saperlo soprattutto ma serve anche a placare a volte delle richieste quasi non le commento ma non giustificabili da parte del cittadino e dice no io voglio quello perché ho letto su internet no ma io voglio quello io voglio tutto quello che vuole ma posso anche dirti di no cioè c'è un discorso anche di educare la domanda ai cittadini i cittadini sono sperati ho letto ho sentito questo o quest'altro la risposta è già cominciare innanzitutto una neoterapia e come dire sono approcci che vengono integrati quando le terapie standard non sono efficaci o producono effetti collaterali questo è un passaggio chiave se noi rischiamo che anche noi a volte vedo sento dei colleghi in occhi un po' estremi nell'uno e nell'altro quindi non è una o come dire una vera e propria terapia è un approccio integrato in pazienti che hanno determinate problematiche o per collaterità dei farmaci tradizionali o per non rispondere per altre tematiche vedremo anche quando li impie quindi già questo è un passaggio chiave come vedete anche una visione da parte medica un po' diversa ci costituisce anche noi diciamo a una certa come dire personalizzazione della terapia o flessibilità dell'approccio dipende dai punti di vista quindi la richiesta non è perché ce la voglio non fa male no io sono uno dei primi che anche mi auguro dico di tanti no quando la richiesta è tanto non fa male tanto non fa male dico scusate vai al cinema non è una buona ragione ok ragionando da da uno che fa questo mestiere vengono indicati in modo tassativo i possibili impieghi terapeutici e questo ve lo ripeto però vedrete che anche dentro la chiave dei tassativo definizione sulle patologie vedremo che alcune patologie poi diventano generiche in realtà lascia libertà al medico di utilizzare in base alla valutazione del contesto malato del singolo malato ve li ripeto anche questo perché è importante diciamo almeno portare a casa si diceva una volta o comunque ritrovare certi concetti allora essenzialmente le indicazioni cosiddette tassative sono per le patologie che implicano la spasticità e il dolore quindi sclerosi in multiplo le zone del medico spinale per il dolore cronico quindi già il dolore cronico è un'espressione tassativa no come definizione a me piace pure l'espressione dolore persistente perché cronico mi fa venire la pelle d'oca perché culturalmente porta diciamo a uno non cura espressione dolore cronico vuol dire già questo inserire una marea di situazioni di patologie a libertà del medico questo è un dato di fatto poi si diceva prima gli effetti della nausea e vomito da chemio radio da vari trattamenti su glaucoma altro dato interessante per effetto ipotensivo e per il trattamento anche lì di movimenti neurologici atipici nella sindrome di Tourette quindi avete visto nasce l'esidratore invece un rigoramento molto rigido nella definizione tassonomica poi vai a tradurre la definizione parlando tra addetti a lavori tra medici che vedono in diverse fasi il paziente già l'espressione dolore cronica di fatto ti consente un utilizzo molto ampio e quindi responsabilizza sia diciamo sia il medico che anche il paziente ok ovviamente si prevede un sistema di 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 sorveglianza dell'utilizzo passaggio successivo questo ve lo scorro rapidamente nel 2015 finalmente arrivano no diciamo la 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 situazione attuale normativa che si autorizza la coltivazione avete delle piante delle derivate della cannabis si individuano le aree di destinazione era quel concetto che vi dicevo prima di sviluppo da parte anche di di terzi e poi l'altro discorso importante è questo qui che andiamo giorni nostri cioè oltre all'importazione qualcuno di voi mi può dire ma se tutto questo è già previsto come mai andiamo tempo reale a volte si ha difficoltà di recupero della materia prima perché anche qui si erano previsti una serie diciamo di fornitori fornitori di sostanze anche dall'estero e poi in realtà tra produzione tipologia di sostanze o a volte domanda che ha dei picchi a volte anche incompressibili e non prevedibili a volte si trova delle situazioni in cui non ci sono determinate tipologie di sostanze proprio per mancanza di materia prima e ovviamente poi c'è un controllo accurato e monitorato anche a livello internazionale sull'utilizzo di queste sostanze altro aspetto significativo vengono definiti chiaramente in accordo stato-regione voi sapete che è l'articolo della modifica dell'articolo quindi della costituzione in qualche modo da poi lo stato definisce i comportamenti le norme minime da rispettare e poi demanda alle regioni l'applicazione e il ricipiamento normativo quindi anche per quanto riguarda un tema che in genere scotta che è chi paga o in che modo le regioni hanno deciso di far contribuire in maniera larga o stretta il cittadino per quanto riguarda il costo di queste sostanze andiamo a regione Lombardia in parte già detta dal collega lo vedete arriviamo nel 2018 la regione Lombardia recepisce le indicazioni della norma e applica una definizione di adeguamento della norma per quanto riguarda i cittadini lombardi andiamo avanti perché vi volevo parlare un altro aspetto significativo lo vedete anche questo vi riporto concetti assolutamente normativi senza nessun commento l'erogazione di preparazione magistrale questa è regione Lombardia che recepisce la normativa nazionale dice l'erogazione di preparazione magistrale a base di cannes per uso medico a carico sistema sanitario regionale quindi il cittadino non paga è previsto per i soli assistiti lombardi manca se divade l'alternativa terapetum quindi ribadisce quel concetto che era già presente nel 2007 ok andiamo avanti su questo aspetto importante quali sono le indicazioni e le indicazioni anche qui come vedete la stessa regione Lombardia ovviamente riporta tutte le patologie segnalate dalla normativa nazionale e definisce perché questi pazienti che diciamo hanno queste caratteristiche l'uso della cannes terapeutica quindi che comunque è come dire un processo di prescrizione che nasce dal medico non perché obbligato ma è una sua valutazione può diventare a carico del sistema sanitario regionale quindi le patologie le abbiamo già ampiamente viste e andiamo avanti quindi questo a carico del sistema sanitario regionale quindi vuol dire che lui non paga per almeno sei mesi i costi di queste sostanze se sono efficaci ma in quale patologie in quali condizioni sono rimborsabili anche questo definisce le patologie definisce le patologie come se c'è paziente con il codice 048 l'oncologico il TDL la terapia del dolore quindi il dolore cronico 046 la sclerosi multipla l'anoressia come vedete è tutto molto definito è molto preciso e questo vi aiuta quando c'è il problema della ricettazione che inizia dallo specialista che adesso vedremo ancora rimarcheremo ancora una volta chi sono ma poi in qualche modo obbliga la condivisione con chi lo segue col medico di medicina generale che in qualche modo deve continuare il piano terapeutico quindi come dire c'è uno starter o una presa di responsabilità e poi deve esserci una continuazione per almeno sei mesi ecco perché anche oggi si è molto stessato come si ricetta andiamo avanti e chi sono chi sono diciamo che possono essere da starter in un piano terapeutico valutato il fatto che non ci sono altri che corrispondono in quella cascata diciamo se troviamo in quella cascata di patologia che non ci sono alternative altrettanto efficaci o che ci sono degli effetti collaterali importanti quindi integriamo non sostituziamo è un end non è uno o l'altro noi integriamo le terapie questo lo rimarco fino alla noia e diciamo lo starter di valutazione della necessità di effettuare un piano terapeutico e quindi vuol dire che è a carico del sistema sanitario in questo caso regionale sono i diversi operatori coeta necessità di animazione terapia di dolori primo e secondo livello neurologia malattia infettiva oncologia medicina interna oculistica reumatologia pediatria ematologia psichiatria radioterapia e poi si sono aggiunte le cure palliative altro aspetto importante una volta che è iniziato il processo di piano terapeutico ovviamente il piano quindi abbiamo valutato che è necessario valutare l'integrazione con questa terapia si decide quindi se si prende anche la responsabilità perché sono soldi pubblici la responsabilità di fare fare in modo che il cittadino sia rimborsato quindi questo è il cittadino malato il piano terapeutico della campus segue esattamente tutti gli altri piani terapeutici previsti da aica esattamente allo stesso modo ovviamente a livello regionale poi a livello di singola distribuzione per quanto riguarda i compiti dell'ATS diciamo l'ex AS per altre regioni sono degli organi di vigilanza e poi c'è un osservatore regionale di gruppi di lavoro che vanno a verificare secondo alcuni indicatori qual è l'utilizzo qual è l'utilizzo e poi avete visto prima vengono segnalate alle strutture superiori di sanità anche gli effetti collaterali di queste sostanze deve essere sempre uno specialista a valutare a prescrivere assolutamente no se questi derivati anche questa è una domanda che spesso si ripete continueremo a dire la noia quindi sono anche contento che prima l'ha accennato ve lo ripeto ancora io quindi qualsiasi medico laureato medicina e chirurgia è iscritto un ordine quindi un ordine dei medici quindi che sta esercitando può può a bontà sua secondo sue responsabilità precise valutazioni iniziare a prescrivere questi farmaci che in questo caso se lo possono fare tutti ovviamente non è a carico del sistema sanitario ma è a carico del cittadino quanto costa al cittadino mediamente in basso e poi va anche lì visto noi siamo anni che le utilizziamo quindi c'è una logica anche di mercato quindi i prezzi in una terapia di circa tipo olio quindi non faccio un torto a nessuno tipo bediol un paziente che inizia a titolare diciamo e paga di tasca sua in titolazione iniziale i prezzi vanno da 100 euro 80 110 dipende dal periodo dalle soluzioni voi sapete che la preparazione le ricette voi ricettate con quella formula descritta prima sulla ricetta bianca con l'alfa numerica definite le concentrazioni la farmacia prepara chi è deputata è in grado di preparare o chi fa arrivare direttamente diciamo dalla le formulazioni dall'istituto farmaceutico di Firenze e poi c'è un terzo che in generale sono dei laboratori esterni o l'università dipende dalle varie convenzioni che controlla qual è la concentrazione è chiaro la filiera no? io decido di una concentrazione la farmacia la prepara un terzo controlla poi hai la fine il feedback finale c'è un'altra variabile ancora così andiamo alla parte pratica clinica poi c'è la conservazione del prodotto e quello non la controlliamo neanche perché poi è il singolo paziente che decide eh vi riassumo adesso sono contesto clinico reale quotidiano quindi noi abbiamo delle sostanze di cui noi indichiamo tendenzialmente qual è la concentrazione CBD e THC che sono i componenti confidionali abbiamo altre 500 sostanze tra vari terpeni in quello che il paziente assume che non sappiamo bene come interagiscono parlando solo di parlando solo di cannabis poi c'è il problema della conservazione del paziente oltre alle concentrazioni di quanto sono veritieri questo vi dico questo non per diciamo come come innescare ansia ma per favorire un corretto approccio di consapevolezza di quello che prescriviamo che non è un sì o no è una consapevolezza andiamo avanti tutto quello che vi ho detto io sono stato molto fiscale nella presentazione tutto quello che ho detto finora è frutto di tutte le normative che trovate qui che poi penso vi lasceremo nelle presentazioni sono circa una quarantina di aspetti normativi che hanno consentito la diciamo in qualche modo la possibilità di poter ricettare e fruire di queste sostanze allora diciamo io mi occupo di terapia dolore come visto nella forma dolore cronico è la parola chiave sembra quasi che sia il paspartuno che può fare consentire ai pazienti di utilizzare questa sostanza quindi mi permetto di rubarvi altri cinque minuti e vi calo vi calo la prescrizione del cannabidoide con testo paziente con dolore persistente ok proviamo un attimo cerchiamo un po' di cerchiamo un po' di stimolarvi su questo aspetto quindi non abbiamo un paziente che ha male e decidiamo di inserire anche autonomamente senza consulto dello specialista la cannabis ad uso terapeutico di qua voglio solo ricordarvi se no vi annoierei fino a domani alcuni concetti chiavi che sono successi il dolore diciamo inizialmente l'abbiamo conosciuto da cartesio in su come sintomo poi si parla di dolore persistente cioè l'idea cronico persistente rende più di cronico perché vuol dire che c'è un meccanismo infiammatorio che si autoalimenta non è finito cioè il cronico se non l'espressione trasforma micro ti dirà che qualcosa a livello fisiologico è finita ed è su un binario morto non è così e poi c'è il concetto di dolore malattia in cui la centralità del dolore è diventato il problema del soggetto e lo condiziona presentamente da tanti punti di vista ma portando anche dei cambiamenti nella conduzione del dolore non è un solo un sentire è anche un cambiamento sul dolore persistente per essere attuale vi dico una cosa chi di voi è stato più attento o meno attento li ricordo questa settimana sì questa settimana è stato assegnato in ove ad amicina lo sapete sì ecco perché mi manca l'aula è stato assegnato diciamo tutti tutte le agenzie di stampa nel dato notizia perché i due colleghi sono stati premiati ricercatori perché hanno individuato dei cavi dei fattori ionici sulla membrane che hanno chiamato TRPV che sono della conduzione tattile termica a caldo a freddo ma lo sapete perché è importante questa scoperta perché grazie a loro proprio sapete quando viene dato il nobile la scoperta è stata già fatta perché deve essere come dire accettata quindi i recettori che loro hanno individuato sono gli stessi deputati e diciamo molto presenti nelle fibre C e nelle fibre a delta a livello periferico cosa sono le fibre C e le fibre a delta ma sono quelle che conducono la percezione del dolore una più rapida e una più lenta quindi vuol dire che quando si parla di fenomeni di amplificazione del dolore di sistemi infiammatori che amplifica e cambia la percezione del dolore vuol dire che questi sono le finestre o i soggetti che possono essere fattori che possono amplificare quei fenomeni dolorosi cioè fanno in modo che il paziente in apparenza è guarito ma lui percepisce e continua dolore e vuol dire che quella continua stimolazione di ioni quindi apertura e eccitazione cellulare vi porta poi alla creazione di focus ectopici e quindi il paziente in apparenza è guarito come vi sarà capitato di vedere facciamo un esempio nell'oportia post-erpetica il paziente è guarito ma che riferisce che continua a avere male quindi questa scoperta questo premio cioè che la scoperta è stata già fatta questo premio ai colleghi per questa ricerca impatta anche sul dolore nel senso che questi recettori potrebbero si sta cercando di produrre anche delle sostanze questi sono i famosi recettori vaniloidi che possono in qualche modo bloccare questo sistema che impazza quindi il meccanismo si media finora abbiamo intuito l'infiammazione continua ad alimentare non è il paziente matto perché spesso sapete in una logica dualistica non vedo allora si vede che è solo psicologico per fortuna non è così questa scoperta ci aiuta anche forse a comprendere questi fenomeni quindi è un passaggio chiave scusate se non ho approfittato di questo aspetto quindi e poi andiamo a dolore e malattia una condizione di disagio per lungo tempo voi sapete che cambia completamente l'approccio del soggetto noi per anni abbiamo detto abbiamo cercato l'aspetto biologico non c'ecezione però se mi avete seguito solo sul peccenno di questi mediatori che vanno ad amplificare i fenomeni anche in apparenza malattia a paziente guarito è chiaro che dalle cose che ci hanno insegnato all'università c'è un mondo qui quindi quel sintomo in realtà non è un sintomo percepito ma ti crea proprio danno ti trasforma la conduzione e la percezione del dolore quindi non è psicologico diventa un dolore persistente e diventa quello che capita a voi di vedere frequentemente che è uno dei motivi di maggiore accesso ai vostri ambulatori come i nostri ovviamente occupandoci di queste tematiche che è un paziente che ha un disagio complessivo quindi non distingue più cos'è il biologico cos'è l'aspetto psicologico e vi risparmio tutti gli aspetti di influenza psicologica di limitazione nella vita relazionale lavori attivi e vi dicendo anche qui abbiamo sempre pensato che gli aspetti emotivi o depressivi fossero una logica conseguenza sempre di più si dimostra siccome ci sono delle caratteristiche molto frequenti in certe forme di dolore eronico c'è anche una componente di genere vedo solo dei flash e si comincia a pensare che probabilmente i comportamenti le fragilità emotive possa essere il substrato ideale a volte per lo sviluppo di certe forme di amplificazione del dolore quindi è stravolgere l'equazione il paziente soffre è giusto che sia depresso e dice ma vuoi vedere che quei fenomeni di amplificazione che vi cennavo prima possono essere proprio driver o trovare pabulum i soggetti diciamo che hanno delle fragilità quindi la distinzione tra cose bio e cose psicologiche in realtà è molto più vicina è molto più legata anche perché alcuni aspetti a livello percettivo dell'amigda ragionano allo stesso modo sia l'aspetto emotivo che l'esperienza biologica anche questo è uno stravolgimento il resto elemento di cui voi sicuramente sarete più bravi di me è che è quella della dimensione sociale del soggetto degli aspetti sociali che tutti insieme fanno diciamo la frittata della situazione quindi componente biologica componente psicologica che non è in automatico che sia secondare ma può essere anche primaria ma non è che vale più vale meno basta riconoscere e la terza elemento che ci fa diventare questi soggetti così complessi nella gestione è che c'è una dimensione sociale che voi vivete più da vicino perché c'è tante dinamiche dei soggetti che tendenzialmente uno specialista ha lo svantaggio di non riuscire a vedere perché non è anche non conosce certe dinamiche certe situazioni del singolo soggetto perché vi ho annoiato su questa tematica perché in questi soggetti che poi si calano i farmaci derivati della cannabis di cui a loro volta hanno tutta una serie di criticità e di non conoscenze quindi noi abbiamo un paziente di questo tipo con queste caratteristiche prevalentemente qui ve lo aggiungo di genere femminile che vi chiede aiuto e quindi voi decidete in questa filiera di complessità e in questa filiera magari vediamo di altri farmaci che utilizza di inserire queste sostanze di cui alcune criticità ve le abbiamo già risparmiate quindi non lavoriamo mai la vostra prescrizione non è mai su un paziente ideale anche perché se poi su un paziente ideale che non ha bisogno la prescrizione scusate è assolutamente inappropriata altro concetto altra altra certezza svanita per anni ci hanno detto ci hanno insegnato che basta solo l'intensità del dolore per decidere quali farmaci prescrivere non è è assolutamente in parte vero ma in parte assolutamente non lo è riguarda l'intensità sull'acuto l'over trattamento sui meccanismi persistenti o malattie dolore in realtà sono un ragionamento sui meccanismi che sottintendono a quella forma di dolore non è l'aglia che si lamenta 10 capito sotto quel 10 che cerchi di tamponare devi capire qual è il meccanismo che sottintende sino diversamente è una battaglia persa come spesso ahimè succede altra invece questa certezza dal singolo farmo per intensità dell'OMS ma non è una critica all'OMS è proprio perché l'OMS ti dà un'indicazione di minima almeno fate questo quel paziente che abitualmente voi vedete in realtà come vedete c'è una combinazione di farmaci perché quel paziente magari ha un problema biologico abbiamo il discorso degli opioidi ma anche lì perché informazioni fossero un po' troppo facili continuiamo a vedere ripetutamente pazienti che vanno in abuso di opioidi con tutta la problematica di gestione ma di dipendenza da farmaci opioidi e qui a volte se tutti lo diciamo sottovoce io ve lo dico a voce alta è vero non è un problema degli americani lo viviamo quotidianamente quindi paziente che già magari ha già una filiera di farmaci analgesici importanti o risponde o non rispondere diversi tentativi di rotazione di farmaci paziente che assume anche farmaci antidepressivi ipnotici in generale una filiera o un traino di farmaci come voi come da noi ha fatto tutto perché spesso in genere poi pazienti si automedica 150 specialisti giustamente a volte accede anche a terapie discutibili e ti arriva con quel livello di esasperazione ok in questo decidiamo di inserire la cannabis ad uso terapeutico quindi perché vi rimarco questo cioè non è un problema solo di ricettazione o le pazienti che protestano ma sapere qual è il nostro obiettivo cioè questo è un passaggio chiave e ho finito quindi le variabili dell'introduzione della carne che avete visto nel dolore cronico praticamente è una lecità in senso di definizione abbastanza ampia tiene conto di tutti quegli aspetti che vi dicevo ma dovete tenere conto anche di questi altri aspetti del profilo psicologico teoricamente se è un paziente che è abusato di analgesici o addirittura anche tabagista è un fattore d'alerte di rischio ma questo vale anche per gli opiogni ok le patologie associate quindi se ha 4-5 patologie croniche prenderà anche almeno 10 farmaci già non sappiamo oggetto è cannabis non sappiamo la cannabis qual è l'azione degli altri componenti a CBD e THC qui ci troviamo invece in una specie di minestrone di altre sostanze di cui i sinergie non le sappiamo le fragilità del soggetto quindi di consapevolezza il profilo cognitivo il suo livello di autonomia tutti i treni di farmaci che prende mediamente quando entriamo su questo tipo di paziente è un paziente che assume dai 5-10 farmaci tranquillamente qual è la sua aderenza terapeutica spesso non lo sappiamo e anzi addirittura si tende più sebbene io devo cercare di aiutare questo paziente mi pongo quali sono i farmaci che posso togliere le sostanze per facilitare una giusta aderenza terapeutica ma perché è importante questo? per poter misurare i risultati se noi rischiamo di ricettare perché c'è una domanda popolare scusate popolare ma con rispetto pubblica non sappiamo bene cosa stiamo facendo quindi la sintesi è questa il messaggio che vi invito diciamo un po' da riflettere è una mia idea non è la Bibbia cioè noi abbiamo bisogni complessi e multidimensionali dei malati con dolore e persistente perché arrivano tutta quella filiera di problematiche che abbiamo visto l'integrazione quindi decidiamo di integrare per tutte le ragioni che abbiamo visto un inizio di terapia con cannabinoide con derivati della cannabis è necessario un processo continuo di sorveglianza io lo so che qui si apre un dibattito ma chi lo fa come lo fa ma chi lo fa non hanno le risorse ma non c'è è meglio non farlo cioè meglio non farlo e poi l'altro patto è il patto terapeutico cioè quel paziente è in grado in qualche modo di facilitarvi in tutte quelle criticità che ha è sempre se ha una grassa o se in demodepressiva secondo me ha un senso iniziale da parte che le linee guide ti dicono anche iniziale di non farlo però tu dici non ho alternativa rischiamo comunque cioè a volte è come dire è più corretto rispondoso per il monato dire dei no piuttosto che in qualche modo scusate diciamo dire accontentare perché non hai alternative cioè noi abbiamo anche delle responsabilità cioè se non abbiamo delle risposte uno vuol dire al momento questa è la migliore cura che ti posso dare e non è che bisogna per forza secondare diciamo perché anche qui noi il miglioramento ne lavoriamo non nel guarire spesso ma migliorare la qualità di vita del soggetto la qualità di vita del soggetto è influenzata da tante variabili quindi prima ancora che dell'efficacia quello che diamo è ancora più importante secondo me la sicurezza del contesto in cui li abbiamo è sicuramente una valutazione più attenta degli aspetti biopsicosociali gli stessi paradossalmente vi sta dicendo questo uno che utilizza queste sostanze da sempre però proprio per correttezza e per non diciamo mandare al diavolo le potenzialità di efficacia di questo farmac di queste sostanze io vi invito a una cautela a cautela dire attenta selezione diciamo quasi in una deregulation delle indicazioni vi dico signore da professionisti se pensiamo che ci sono delle potenziali e lo sappiamo che ci sono è necessario utilizzare con una certa attenzione se no rischiamo a un certo punto che magari succede qualche problematica e poi si passa da tutto a nulla questo è un invito che vi do fortemente chiaramente in questa logica che potete più che mai secondo me è l'ultima considerazione che vi do è quello di cercare di condividere alcuni concetti alcune criticità non è più bravo o meno bravo quello è più bravo no abbiamo una situazione complessa da gestire dobbiamo essere prima dei pazienti dobbiamo essere noi consapevoli di queste situazioni e questo ci aiuta a lavorare in rete a lavorare in rete cioè a condividere un approccio io mi piace più di tra professionisti condividere un approccio qui vi cito anche qui per chi non lo sapesse che abbiamo creato anche questa app proprio per cercare di parlare a volte magari ci senta difficile anche sentirsi al telefono per orari diversi situazioni diverse noi abbiamo cercato di dare un piccolo contributo a favorire questa comunicazione questa condivisione siamo alla pari perché voi vedete delle complicità non ne vediamo delle altre questo piccolo strumento che è un'app che è rete del dolore red de minano che abbiamo fatto in sinergia poi per atto con un grosso supporto dell'ordine dei medici proprio per cercare di trovare degli strumenti anche tecnologici che ci consentono di condividere delle delle criticità anche in una migliore gestione la migliore possibile perché non sappiamo quale possa essere la la guarigione spesso da queste sindrome del dolore beh io avrei finito se non ho sa che ne ho abitato un po' del tempo spero di non avermi negato no assolutamente dottor Notaro anzi ti ringrazio ti ringraziamo per tutta la parte pratica che ci hai dato e anche per quest'ultima slide che che può essere utile a molti di noi sul territorio mi permetto di dire che sempre di più ascoltandoti mi viene da dire che la medicina non è proprio solo scienza ma deve essere impastata con quella che è la parte di arte cioè quando ci troviamo di fronte a un paziente non si può parlare solamente di rigidità di piani terapeuti ma come dicevi tu ogni ogni aspetto deve essere considerato abbiamo finito il tempo del webinar però a questo punto diamo spazio alle domande che vado a recuperare la prima domanda era una domanda per il dottor Dell'Agli che era quello quante prima aveva detto che c'erano delle così delle coltivazioni in Italia quanto sono le coltivazioni in Italia per quanto riguarda la cannabis terapeutica molto molto veloce come ok sì allora i dati parlavano fino al 2018 di circa 4.000 ettari dedicati a coltivazione di cannabis nel 2020 siamo già intorno ai 6.000 ettari le coltivazioni in Italia sono dislocate un po' in tutte le regioni quindi dalla Lombardia sono al corrente di coltivazioni in Liguria e anche in Sardegna perché il territorio italiano come ho detto si presta particolarmente la coltivazione di cannabis chiaramente stando particolarmente attenti alle norme alle legislazioni che possono ovviamente impattare su alcune varietà alcune cultivar che magari hanno un tenore un pochino troppo elevato di THC ma ricordiamoci che esistono anche delle varietà dove il THC non è assolutamente presente grazie la seconda domanda è legato di cui una parte ha già risposto il dottor Notaro sui costi della terapia forse intendeva chiaramente sui costi in quelle situazioni in cui non è passato dal servizio sanitario nazionale forse questo dottor Mescare può rispondere certo molto rapidamente in realtà la cannabis ha un prezzo imposto al paziente in Italia quando viene venduta come tale come infiorescenza all'interno di cartine utilizzate ad esempio per uso inalatorio di 9 euro al grammo indicativamente anzi il prezzo è stabilito ed è quello lì ma quando chiaramente si passa a un estratto quindi non c'è semplicemente l'infiorescenza ma l'infiorescenza viene processata e lavorata per raggiungere per esempio un olio un estratto in olio in quel caso chiaramente i costi aumentano e come diceva giustamente il dottor Notaro prima siamo intorno ai 120 euro per il preparato definiamolo classico tra virgolette che è di 5 grammi in 50 millilitri di olio di oliva poi chiaramente da lì c'è anche mi permetto di aggiungere molto velocemente che chiaramente anche i cristalli in CBD nel caso vengano utilizzati hanno un costo a sé stante che dipende da fornitore e ovviamente farmacia però principalmente come dicevamo prima vengono utilizzati preferibilmente gli estratti che contengono tutta la totalità delle molecole presenti nella cannabis questo aggiungo io la domanda ma quindi è possibile che due farmacie diverse abbiano due prezzi diversi per la stessa quantità di prodotto è possibile è possibile assolutamente allora l'altra domanda è se l'indicazione dell'emicrania cronica non è prevista in Lombardia deduco che la domanda faccia riferimento al fatto che sia rimborsabile da Sanitario Nazionale qualcuno può rispondere se no rispondo io basandomi sul fatto che non c'è un'esenzione per l'emicrania cronica ancora e quindi non essendoci un'esenzione come si diceva come è stato detto dai vari relatori non è possibile fare una una prescrizione tramite rimborsabile tramite il Servizio Sanitario Nazionale qualcuno vuole aggiungere no sì confermo che è così perché la definizione lì è un po' per aprire un altro argomento che non so che con nessuna domanda è anche sulla fibromialgia questa sindrome che raggruppa situazioni c'è un po' a volte di bagalle di richieste a volte non proprio in modo in cui c'è un'identificazione di una classe di disagio e dice esenzioni rimborso e lì sul dolore cronico la cefalea non c'è una specifica almeno diciamo più diffusa alcuni invece lo sono l'utilizzo è per indicazione di dolore cronico che ci può stare però è la scelta del singolo prescrittore che dice è davvero efficace mi cambio il percorso del paziente e decido con responsabilità di metterlo a carico del sistema del sistema sanitario regionale la stessa cosa visto che ne accennavo succede su una dimensione che sembra adesso un'epidemia della fibromialgia no? sembra che tutte le situazioni ci sono sindrome fibromialgiche anche se i meccanismi sono diversi le situazioni sono diverse anche lì per avere diciamo l'accesso alle città poi sai come dicevamo prima si diceva prima con ricetta bianca ogni singolo medico dice beh se è necessario noi utilizziamo un trucchetto che non so ve lo posso svelare ma non è cattà un trucchetto cioè noi a prescindere ne possiamo parlare se non ci sono noi a prescindere tendenzialmente come in tante situazioni clamorose difficilmente iniziamo d'amblè su un piano terapeutico proprio per quel cocktail di pazienti di farmaci treno di farmaci di interazioni recettori varie interferenze che ci sono devo dire quasi mai quasi mai siamo su un inizio direttamente di piano terapeutico spieghiamo al paziente che sicuramente lui potrebbe essere tutte le caratteristiche di avere diciamo la sostenibilità del sistema sanitario quindi di fare il piano terapeutico ma spieghiamo anche proprio quello che dicevo nella presentazione la complessità che non lo sappiamo se può essere efficace o non efficace quindi diciamo guardi iniziamo a titolarla con quei costi che diceva il collega che rimarcava anche io prima in titolazione fai almeno due mesi di terapia perché l'altro passaggio chiave io mi sono perso un pezzo del congresso è che il segreto è fare bassissimi dosaggi e molto lentamente nel tempo quindi se uno inizia una minima quantità di olio anche due o tre gocce cioè arrivare ad un effetto di titolazione lo vedi dopo un mese e mezzo peraltro ci sono delle volle di literature che dicono che un mese e mezzo hai dei risultati perché c'è anche una componente di effetto placebo parentesi sono pubblicati questi aspetti quindi se tu dici guardi sicuramente se funziona le faremo sicuramente il piano terapeutico però lei inizi così mi porti vediamo i risultati e poi sicuramente diventiamo un piano terapeutico io devo dire che anche in seduzioni molto chiare che probabilmente può essere un aiuto in una fase di quella di quel paziente il paziente comprende cioè il cittadino da ribelle lo voglio scusate perché pago le tasse piuttosto che ho il mio diritto cioè non è che per diritto che noi saniamo i malati che vi dico poi gli scontri che poi anche voi stessi mi raccontate le difficoltà di gestione che parenti la serietà dice guarda io non te la nego però per potertelo continuare come giustamente devo verificare che effettivamente e tanti pazienti poi dicono sì dottore non mi è servita niente aveva ragione quindi tutta quella quella enfesi in questo come dire l'empowerment l'informazione del cittadino come dire può essere anche un'arma non è detto che sia un fattore critico è anche su un tema che poi si presta lo sappiamo anche in questi giorni anche a potenzialmente a strumentalizzazioni politiche a qualche diciamo scivolata non proprio appropriata rispetto all'uso che noi ne facciamo di queste sostanze ecco allora un'altra domanda che è possibile usare questi preparati per la cura della dipendenza dai cannabinoide ci sono studi a proposito allora questa domanda è più può riguardare più un discorso di psichiatria io personalmente rimanderei alla settimana prossima dove ci saranno i clinici a meno che qualche relatore non abbia qualche esperienza diretta no per cui settimana prossima ci sarà il secondo intervento avremo la possibilità dal punto di vista clinico di rispondere a questa domanda così spessamente clinica il tempo stringe stiamo già sforando abbastanza per cui direi di fare un'ultima domanda la regia mi conferma siamo e questa dice la domanda è THC e CBD agiscono entrambi sui recettori CB1 e CB2 allora agiscono ambedue sia sui recettori CB1 e CB2 hanno due reazioni diverse e rispondo volentieri a questa perché e con questo parlo chiedo conferma al dottor notaro che sicuramente è più esperienza di me il cannabidiolo che è quello che interagisce anche col CB2 se non sbaglio agisce anche sui recettori vanillinici quello che diceva prima per cui hanno avuto il premio nobele ed è per questo che agisce così tanto sul dolore e sull'infiammazione non c'è una distinzione così netta e diciamo i lavori più più forti con tutti i limiti convergono diciamo cioè indirizzano su una convergenza di azione capito sul meccanismo anche perché sul meccanismo endocandermidoide che noi abbiamo sull'organismo anche lì abbiamo delle conoscenze vive Dio da qualche anno molto forte però anche lì abbiamo delle conoscenze diciamo come scusatemi la definizione anatomicamente fermo cioè come quando a volte discuto con gli amici farmacologi dell'università e discutiamo dell'azione del recettore ma tu ragioni su una dimensione ferma di un paziente noi stiamo ragionando di sistemi in cui il paziente non è un esempio di laboratorio ma è un paziente che è già a livello recettoriale di tutti i meccanismi anche di mediazione voi sapete che la faccio brevissima CBD e THC diciamo uno è più fa virgolette l'analgesico l'altro va più sulla percezione la componente di CBD quindi sulla migda su quella sensazione di piacere di ricordo di disagio come a volte va a dire sì dottore non mi funziona sul dolore però mi sento meglio quando dicevo quelle che utilizzano tanto CBD però il dolore c'è però io mi sveglio che sono meglio quindi in un paziente dinamico in realtà che è stato già provato di componenti recettuali noi non sappiamo fino in fondo che succede cioè stiamo costruendo il sistema avere le conoscenze fermo statico quindi se agiscono con una molecola succede questo in un evento dinamico è presumibile ma è quasi certo che le componenti si attivano a vicenda non c'è una distinzione netta è chiaro cosa sto dicendo quando THC mi dice mi sento meglio ma il dolore è lo stesso teoricamente beh il dolore deve essere uguale perché ti senti meglio quanto è forte non riusciamo ancora a misurarla e quella cosa che cennavo della scoperta quella cosa la scoperta l'identificazione di questi porte ioniche che si attivano i TRPV è anche un'azione di meccanismo fino a qualche anno fa anche il metadone vi tirò fuori un altro argomento veniva considerato per un certo meccanismo d'azione che mediasse sul sistema endocannabinoide quando non avevamo tanti concetti si era intuito e si era visto con le forme simulava quell'azione e quindi era per dire che ci sono delle componenti che ancora non sappiamo e la risposta più sicuramente attualmente la risposta più appropriata era quello che dicevi tu insomma una convergenza di entrambi l'altra domanda se è possibile l'uso nel Parkinson da quello che so l'uso nel Parkinson viene utilizzato soprattutto per la componente spastica anche delle parti esatto si conferma l'altra domanda il geriatra non è previsto come penso che anche questa sia legata alla prescrività del sistema sanitario nazionale non no il geriatra a meno che non non no lì non c'è non sai lì quando fai una griglia cioè c'è il pediatra sempre per esempio avete notato che c'è ma lo viviamo anche che anche colleghi diciamo specialisti diciamo ma noi perché sai quando devi fare o tutti oppure ma lì serve anche per controllare i pianeti terapeutici e le prescrizioni quando scegli da qualche parte sbagli sempre diciamo metti tutti insieme però è legata solo a quello di ricettazione però nulla osta che la ricetta inizi il piano terapeutico o un altro e comunque non viene negato l'approccio e questo è che voglio dire a tutti quelli che ci ascoltano e l'altra domanda interessante se questi farmaci creano dipendenza ah sì come gli altri se vale se ragioniamo tra colleghi in mondo rigoroso tutti i presupposti ci sono non è un caso non è un caso che tutti i meccanismi tutte le raccomandazioni sia ministeriali che di tutte le società internazionali dicono attenzione molta cautela se non assolutamente un semaforo rosso nei pazienti che hanno una storia già di disturbi cognitivi comportamentali di uso di antidepressi ad addirittura di alcolismo di tabagismo ergo questo vale anche per gli opioidi perché gli opioidi stiamo facendo dei disastri attenzione la selezione del paziente non è che tu neghi le terapie ma quindi la risposta è sì e l'ultima che però non ho capito bene io la domanda per cui è quali sono gli effetti collaterali più ingestibili o più gravi di questi preparati gallileani o farmacologici punto di domanda non vuole che giungo io poi dirò magari mischiare qualcosa noi abbiamo visto che in genere le interruzioni maggiore sono finora non vi svelo tutto perché stiamo per pubblicare un articolo però gli effetti collaterali che portano all'interruzione in genere sono la tachicardia il paziente si dice è incredibile quello attento mi raccomando signora XX io parlo sempre un po' a femminile c'è proprio una cosa guarda signora utilizzi due gocce poi piano piano non è una risposta immediata quindi aumenti poi tre poi quattro mantenga tutto il resto di farmaci poi decideremo noi quale togliere o quale fare quando poi torna al controllo dice dottore sì io ho dovuto prima ridurre il dosaggio e poi interrompere invito anche i colleghi loro si accorrono non so da sette a otto da otto a dieci gocce sto parlando nella soluzione classica che dicevamo prima no in olio che hanno questi fenomeni di tachicardia un altro aspetto che dicono spesso poi che l'hanno interrotto quindi non hanno potuto aumentare il dosaggio è una sodurazione micidiale che li rende diciamo una qualità di vita diciamo devo cambiare quattro volte al giorno le sto dicendo degli aspetti che dico vi le ristorna raccontando in narrazione per non svelarvi completamente l'articolo però vi ho già accennato quegli aspetti il paziente se tutti i toli basso e molto lentamente che è l'altro segreto riesci da solo come dire a guidare la terapia e riconoscere gli effetti collaterali è come se tu dicessi guarda questo è il campo da gioco no queste sono le regole del gioco non ti muovi fuori da questo campo ti lascio libero di titolarla ma rispetti le mie indizioni non è detto che a dieci gocce debba arrivare in tre settimane ci può arrivare anche in un mese ci può arrivare anche in un mese e mezzo questo chiaramente rende il vantaggio che personalizzi molto la terapia e hai il rapporto con il malato dall'altro se il malato non ha quelle non prende la bottiglietta intera perché è esasperato lui stesso si accorge se effettivamente ha un senso o non senso voi potete immaginare che da noi arrivano pazienti molto esasperati rimbalzati da altri centri da altre regioni quindi arrivano un approccio voi siete più bravi di me aggressivi cioè esasperati ma anche pretenziosi perché dice io sto male devo guarire che ho girato mezzo mondo quando inizi questo approccio quello arrabbiato e ha l'effetto è lo stesso che ritorna tranquilli e dice sì effettivamente dottore mi dica lei cosa possiamo fare no e questo è un ruolo chiave a volte non sempre riesci come dire a trovare la giusta chiave la giusta sintonia però secondo me titolazione lenta molto lenta titolazione del paziente certi meccanismi dal mio osservatorio circa un anno fa un anno e mezzo fa sarà un caso visto che c'è anche il collega Saborini che era paziente degnamente l'ordine avendo un ruolo importantissimo avevamo un'impennata di richieste cioè proprio la gente che protestava io ricevevo centinaia ma forse anche centinaia di me di gente che si lamentava che voi non ricettavate che l'altro specialista non ricettavate che diventiamo un distributore di ricette di cannabis e poi era più difficile contrastare quindi erano sempre dei no 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 chiaramente per quanto la premessa che vi dicevo ultimamente c'è vedo che c'è meno c'è una richiesta più appropriata c'è una richiesta più misurata quindi probabilmente quello che stiamo facendo anche grazie agli incontri come questi aiuta tutta la filiera ad avere il giusto approccio sul malato e dare cioè guarda se io le dico di no a me non mica le faccio il dispetto cioè a volte parlare molto semplicemente anzi se fossi sicuro che guarisci le do cannabis su tua vita ma non è così cioè quando la poni sul suo bisogno vedi che lui deve fidarti e spesso succede che lui stesso che dice dottore guardi rispetto alle dinamiche rivendicazioni economiche o di gruppi di patologie dottore ma non non mi serve niente non mi serve niente ma questo ci aiuta anche a continuare ad utilizzarla a vedere se effettivamente è efficace o non efficace e in quali situazioni diventa veramente efficace mi seguite su me questo è un passaggio chiave importantissimo assolutamente va bene abbiamo concluso perché mi sa che sia anche ora di andare di andare a pranzo io ringrazio veramente ancora tutti passo la parola di chiusura al dottor Tamborini che e spero che siamo riusciti a rispondere alle sue perplessità iniziali assolutamente ringrazio tutti i relatori in effetti siamo andati decisamente lunghi ma questo anche grazie a una discussione che si è animata con molte domande che è indice del fatto che l'argomento è di grosso interesse quindi ringrazio i relatori che hanno saputo in pieno rispondere a quello che era un po' il il così la nostra richiesta di essere estremamente pratici ancorché si sia dimostrato come la materia ahimè forse da un punto di vista amministrativo burocratico è ancora un po' troppo complessa ma lì non è colpa né nostra né dei relatori è colpa forse dei nostri amministratori politici andrebbe regolamentata forse un po' meglio ricordo a tutti coloro che sono collegati ancora che tra una settimana settimana prossima ci sarà la seconda parte altrettanto interessante per cui invito tutti attenzione a fare una nuova iscrizione in quanto sono due corsi che vivono di vita propria e quindi andrà fatta una nuova iscrizione e niente ci un arrivederci quindi a settimana prossima grazie ancora a tutti i relatori complimenti per le esposizioni di rara chiarezza direi e dimostrazione ne è stata quanto siamo andati lunghi grazie a tutti grazie a tutti arrivederci buon proseguimento di giornata grazie buona giornata a tutti grazie